Allora, buongiorno, grazie di essere qui e diamo inizio a questa giornata di formazione sul tema dei disturbi specifici dell'apprendimento. Questa è la terza volta che festeggiamo la settimana nazionale della dislessia, festeggiamo ma meglio informiamo più che festeggiamo e ogni anno siamo sempre riusciti ad avere qui in università delle iniziative importanti che hanno visto una buona partecipazione di pubblico. Riteniamo che sia un grande pregio della nostra università avere un servizio che si occupa specificamente dei disturbi specifici dell'apprendimento e di essere molto attenti a tutte queste tipologie di disturbo che sono oramai sempre più frequenti e sempre più comuni anche tra i nostri studenti. Cominciamo con un saluto del Rettore che è riuscito a essere qui e quindi siamo contenti che ci introduca in questo momento. Bene, grazie Paola. Ben trovati a tutti da parte mia. Sì, un po' un fuori programma. Paola, poi la provettrice, ci rappresenta pienamente in materia didattica. Ma siccome mi sono trovato per un cambio di programma a passare mi faceva piacere darvi un saluto e soprattutto dire due cose che sono importanti. Una è che qui trattiamo temi di estrema rilevanza per noi rispetto ai quali come istituzione non siamo storicamente molto ben preparati. Perché una volta, per motivi che ben comprendiamo, non dovevamo confrontarci con questi problemi come università. Perché purtroppo il sistema scolastico difficilmente aiutava le persone ad arrivare all'università. Oggi fortunatamente dobbiamo confrontarci con questo problema ma ci arriviamo un po' insomma impreprati. Noi abbiamo una grande fortuna. Abbiamo la fortuna di avere dentro il nostro tenere delle competenze specifiche, nostre, di ricerca ma anche di intervento. E questo ci aiuta moltissimo. E quindi grazie allo splendido lavoro di Paola e degli altri colleghi insomma noi riusciamo a mettere dei contenuti molto particolari. L'altra cosa molto importante che mi sento di dire è che sono contento di vedere che la partecipazione è numerosa. Il che vuol dire che chi è in prima linea si sente, non solo sensibile personalmente come lo siamo tutti probabilmente, ma si sente anche a contatto con questo problema e cerca molti modi per affrontarlo. E la terza cosa, che è un corollario della seconda, è che saluto i colleghi accademici che ci sono, ma non sono tanti, presenti in sala. E quindi sappiamo che dobbiamo sensibilizzare i nostri colleghi, guardo Paola, a cercare di fare di più su questo campo, perché poi sono in prima linea anche loro, forse anche spesso molto più di tutti gli altri, nel cercare di lavorare in modo corretto rispetto a queste problematiche, che sono molto serie. Oggi siamo chiamati a far sì che questi disturbi dell'apprendimento non siano elemento ostativo, ma oltretutto siamo chiamati a fare sì che le persone che hanno questo tipo di problemi, con varie intensità, possano mettersi quanto più possibile nelle condizioni degli altri. E questo vuol dire ancora di più. Non solo dobbiamo fare in modo che possano sopravvivere dentro l'università, ma dobbiamo fare in modo che la loro vita, la loro esperienza formativa sia appagante di soddisfazione, tanto più possibile come chi non ha questo tipo di disturbi. Quindi su questo io vi ringrazio, lascio lavorare, naturalmente il tempo è prezioso, e volevo solo approfittare dell'occasione per salutarvi e ringraziarvi. Come vedete, insomma, questo è un evento organizzato dal Dipartimento, dal Laboratorio, ma anche dal Formide, che è il nostro nuovo centro per la formazione dedicato ai colleghi, proprio per cercare di dare ai colleghi strumenti, anche da questo punto di vista. E quindi, insomma, credo che su questo fronte noi siamo abbastanza forti. Ovviamente c'è la nostra direzione didattica, saluto il dottor Zanei, che è qui con noi, che ovviamente preside tutti i servizi agli studenti, e quindi anche questo tipo di servizi. Buon lavoro a tutti, grazie ancora, e alla prossima volta. Bene, grazie al Rettore di essere riuscito a passare, e ora il saluto della progettrice alla didattica, la professoressa Paola Iemicelli. Ecco, grazie ancora alla professoressa Venuti, grazie Paola, grazie al Rettore che ci ha appena salutato, al nostro delegato, il professor Macchi, delegato per i problemi concernenti la disabilità. Grazie a tutti voi, grazie a tutti noi per essere qui presenti, credo che sia un momento molto importante, e sono particolarmente contenta, particolarmente anche così, un po' emozionata, perché è un giorno che pubblicamente parliamo e nominiamo il Formid, insomma, per il ruolo che esso ha, un centro di competenza, in realtà è una parte di questo Ateneo, semplicemente, che vuole essere un punto di riferimento per tutti i docenti, in primo luogo, ma anche per i componenti del personale tecno-amministrativo e per gli studenti, nel momento in cui riflettiamo sul nostro mestiere di docenti, su come lo facciamo, su come possiamo farlo meglio, su come possiamo crescere come docenti nella nostra capacità didattica, che sicuramente è già una capacità che vive dell'esperienza e della competenza che abbiamo, ciascuno di noi ha saputo costruire appunto nel tempo, ma che giorno per giorno molto sommato vive nuove sfide e si rimette in discussione. Ecco, quella dei disturbi specifici e dei bisogni specifici dell'apprendimento e dei bisogni educativi speciali è sicuramente una sfida importante. Io ricordo, insomma, diversi anni fa ero parte del gruppo di lavoro e dei delegati coordinati oggi dal professor Macchi per appunto le disabilità, ai bisogni appunto speciali, educativi speciali degli studenti e tanti anni fa si iniziava a parlare in realtà di questi disturbi specifici dell'apprendimento e con un certo senso, così, con una sorta di coscienza personale e se ci avvicinavamo a questi tempi per sensibilizzare anche i nostri colleghi sull'esistenza di queste problematiche. Bene, oggi queste problematiche sono molto più presenti grazie appunto a contributo anche delle nostre esperienze della psicologia. Insomma, siamo riusciti anche ad acquisire maggiore consapevolezza sul loro ruolo, sulla loro rilevanza e su quello che è il nostro ruolo come università, come docenti, in modo particolare o come, appunto, componenti del personale tecnico-amministrativo che può contribuire e aiutarci a svolgere il nostro compito. Ecco, oggi, oltre a, come dire, compiacermi e ad essere molto felice di condividere e di salutare questo momento di informazione e di riflessione, direi, su tematiche così importanti, vorrei richiamare la nostra attenzione, l'attenzione di tutti, su un aspetto. Siamo qui per, diciamo, promuovere o per consentire a studenti che hanno bisogno, appunto, educativi speciali di vivere appieno la loro esperienza, di sentirsi parte, appunto, di una comunità, di sviluppare la loro personalità secondo quelle che sono le caratteristiche del loro percorso di apprendimento. Noi possiamo contribuire a favorire, appunto, questo percorso. Non credo che serva, però forse è giusto anche ricordare che questo non è soltanto, così, l'attestazione di una nostra sensibilità culturale. È un loro diritto. Fa parte del loro diritto allo studio. La legge oggi, richiamo la legge 170, ci riconosce il dovere di, appunto, rispettare questo loro diritto ed assegna un ruolo importante, appunto, alle università. Quella è una legge che riguarda in particolare la scuola, ma riguarda anche l'università. Ci si dice che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e di formazione e negli studi universitari. Ecco, ci siamo proprio noi. E poi ci si dice che agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università, nonché gli esami universitari. Quindi, sicuramente oggi siamo qui non tanto e non solo per ottemperare un dovere, appunto, che la legge, in tutto sommato, prescrive, ma perché viviamo il nostro ruolo di docenti, con un ruolo che deve essere adeguato appunto alle finalità e agli obiettivi che ci proponiamo di perseguire. Però, qualche volta, è anche importante ricordare che esistono dei diritti che fanno parte appunto del diritto allo studio di questi studenti e quindi, tutto sommato, rientriamo in questo percorso che è anche un percorso civico appunto di partecipazione alla vita di questa comunità. Non entro negli elementi tecnici, si parlerà probabilmente di componenti appunto di strumenti compensativi e dispensativi, però appunto mi piaceva anche richiamare questa cornice. Quindi, grazie per essere qui. Diamo inizio senz'altro ai lavori e passo la parola a chi con maggior competenza anche di me, appunto, può contribuire a questo momento formativo. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Prima di dare la parola alla professoressa Paolo Venuti volevo ringraziare anche i colleghi del CLI Centro Linguistico di Ateneo che hanno contribuito anche loro a organizzare queste due giornate e vedremo quando parleremo poi più nel dettaglio di quanto le lingue vanno ad impattare su queste tematiche, le problematiche che gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento devono affrontare soprattutto per quanto riguarda la conoscenza delle lingue straniere. Diamo il via, allora, ufficialmente a questa sessione pomeridiana introducendo la professoressa Paola Venuti che è direttrice del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento che ci parla dei disturbi specifici dell'apprendimento aspetti clinici e di ricerca. Ecco, buongiorno a tutti. Allora, questa, entriamo nel vivo, io devo cercare ora di spiegarvi in maniera abbastanza facile e spero non dormiente cosa sono i disturbi specifici dell'apprendimento e da un punto di vista clinico quello che si fa e poi due parole su quello che la nostra Università sta facendo da un punto di vista di ricerca perché in realtà su questo argomento ci sono più filoni di ricerca in più dipartimenti del nostro Ateneo. Allora, i disturbi specifici dell'apprendimento fanno parte di una categoria molto ampia di disturbi che sono chiamati disturbi del neurosviluppo. Mi fermo un attimo su questo perché sono un po' una novità anche questa definizione è abbastanza nuova in realtà è dal 2013 che si parla di questo ed è un po' un ribaltamento della concezione della patologia come qualcosa che sta là e te la porti per tutta la vita e non la muovi da là. Il disturbo del neurosviluppo in realtà indica delle modalità diverse di formazione del nostro cervello che si forma in maniera diversa nella fase di gestazione quindi quando si sta formando il cervello che poi il bambino nasce e apparentemente non ci accorgiamo di niente quando gli vengono richiesti dei compiti specifici in alcuni casi ci rendiamo conto che questo soggetto non riesce ad assolvere quei compiti specifici e il livello in cui non riesce a assolvere questi compiti è molto diverso da soggetto a soggetto è molto diverso il modo in cui si recupera in qualche modo o si riesce a ovviare a questo problema ed è molto forte l'influenza ambientale e l'influenza del contesto nel modo in cui si fa fronte a questo disturbo in realtà sono delle alterazioni delle funzioni più evolute del cervello in qualche modo quindi di funzioni intellettive attenzione memoria lettura scrittura coordinamento pianificazione quindi sono quelle le funzioni più elevate del cervello e vengono classificati in fondamentalmente tutti i nomi di patologie che in qualche modo conoscete e che in questo periodo si stanno conoscendo molto di più disturbo dello spettro autistico disturbo del specifico dell'apprendimento disturbo di attenzione e iperattività disabilità intellettiva quindi sono un grosso quadro che colpisce l'infanzia e che ha una caratteristica che quanto prima ci si lavora quanto prima si trattano questi disturbi tante più possibilità di successo noi abbiamo per alcuni disturbi tipo il disturbo dell'autismo ce ne accorgiamo a 2-3 anni per i disturbi specifici dell'apprendimento il tempo è molto più lontano perché ce ne accorgiamo fondamentalmente quando gli viene chiesto di leggere e scrivere o di avere processi complessi di apprendimento quindi a livello di scuola nello stesso tempo però sappiamo anche che esistono dei segni dei precursori e dei segnali di allarme su cui noi poi vogliamo prestare l'attenzione perché quanto prima si lavora su certi aspetti si comunque si risolve in parte il problema cosa sono allora dopo questi disturbi specifici dell'apprendimento sono disturbi che coinvolgono uno specifico settoriale dominio di abilità quelle del leggere scrivere e fare di conto quando parliamo di dislessia disgrafia e discalculia tocca quindi le abilità di leggere scrivere di calcolo che non vengono acquisite come processi automatici non è che non sono acquisite non sono processi automatici se io chiedo a ognuno di voi come fai a leggere non lo sapete è diventato un meccanismo talmente automatico per cui voi non sapete come si fa a leggere se io chiedo a un dislessico come fai a leggere lo sa perfettamente mi dice guardo la parola più o meno capisco che così e poi vado a guardare le singole sillabe oppure mi dice metto assieme le sillabe e poi compongo la parola quel metodo con cui si apprende generalmente a scrivere ma ti ta matita ok quindi per noi è un processo automatico per loro non è un processo automatico come tutti i processi automatici più si fa più si pratica più apprendi e più vai meglio ti fermi non ci lavori su perdi competenza e devi ricominciare da capo io per far capire il concetto dell'automatismo mi riferisco molte volte allo sport chi di voi ha imparato a sciare da quando ha tre anni può stare due stagioni senza sciare in linea di massima dopo la prima pista ritrova la stessa competenza che aveva un tempo e se scia ogni anno tutto sommato si può dire che migliora sempre che sta sempre meglio il fatto che passano gli anni è relativo e in quello sport comunque mantiene una completezza un'elasticità una scioltezza che non ha sicuramente chi impara a sciare a vent'anni o a venticinque anni e quindi questo secondo me è il concetto proprio di automatismo quello che noi impariamo a fare quando siamo piccoli è diverso da quello che poi impariamo a fare e facciamo chi è bravo a sciare certo la prima volta che va sulle piste dopo un anno dopo due tre ore fa fatica ma poi riesce a sciare cinque sei ore senza accorgersene chi ha preso a sciare dopo un'ora due ore non ce la fa più cioè è spompato perché? perché teso è contratto ha difficoltà nel respiro cioè ci sono tutta una serie di competenze che rendono stancante molto più della fatica fisica tutto quel processo di sciare la dislessia e disturbi specifici dell'apprendimento sono un automatismo non avvenuto nel settore della scrittura della lettura e del calcolo purtroppo l'incidenza di questa patologia è altina perché noi andiamo in Italia a una percentuale che va dal 3 al 5% quindi su 100 bambini ne possiamo avere da 3 a 5 che hanno questo problema su statistiche inglesi di lingua quindi inglese arriviamo al 10% laddove la lingua è più complessa e quindi è più evidente anche la difficoltà di alcuni del procedimento di lettura e scrittura quindi diciamo ce ne dobbiamo occupare perché sono abbastanza insomma non sono un numero quindi in università noi ne abbiamo oggi lo sappiamo un tempo o non ci arrivavano o non lo sapevano come vengono classificati noi nel nome grande disturbo specifico dell'apprendimento poi esistono dislessia che è il disturbo della lettura disgrafia che è un disturbo della scrittura discalculia che è quello del calcolo disortografia per cui non apprendo e non rendo automatiche le regole ortografiche e un disturbo della comprensione del testo in una persona è molto facile che coesistano alcuni di questi disturbi è difficile che uno è solo dislessico e poi tutto il resto no in genere c'è una perlomeno in genere abbiamo dislessia e disortografia o disgrafia e spesso non c'è la discalculia che è più rara quando c'è la discalculia in genere ci sono anche le altre insomma come patologie però abbiamo una e quindi qui vedete anche il diverso livello di persone e di gravità delle persone il disturbo come vi ho già detto ha una base neurobiologica e però di tipo funzionale cioè io se faccio una risonanza magnetica visto che vanno tanto di moda a un bambino appena nato non mi accorgo che c'è la dislessia così non mi accorgo che c'è l'autismo così non mi accorgo che c'è la DHD sono dei deficit che si manifestano nel momento in cui il cervello deve funzionare ok quindi io non ho un cervello che è fatto in modo diverso è un cervello che funziona in maniera diversa nel momento in cui devi leggere nel momento in cui devi scrivere devi contare e così via quindi è la base neurobiologica di tipo funzionale mi accorgo che non vai non per la struttura che hai del cervello ma per il tipo di funzionamento del cervello in quel determinato momento e il proprio per l'aspetto che vi ho detto di automatizzazione quello che io vedo in un soggetto è la lentezza nel fare queste operazioni e non l'incapacità quindi un bambino di sette anni che dovrebbe che sta imparando a leggere ed è molto lento nell'acquisizione mentre gli altri leggono già parole di tre sillabe e lui sta ancora cercando di leggere la sillaba e questo è il possibile segnale non è che lui non riesce a leggere lui è lento quindi tutto l'apprendimento è rallentato un adulto con dislessia una pagina la legge benissimo ci mette molto più tempo degli altri a leggerla probabilmente se la legge ad alta voce fa un numero di errori anche maggiore del numero di errori che fa più o meno una persona con sviluppo tipica mentre lo legge comunque il senso fondamentale è la lentezza purtroppo questa lentezza del leggere e scrivere diventa molto spesso un qualcosa di pesante perché come dire la persona diventa lenta viene etichettata come lenta cioè il bambino che legge lentamente diventa un bambino lento il bambino che scrive lentamente diventa un bambino lento e pigro a cui non gli piace sforzarsi a leggere e scrivere questo è un grosso problema di queste patologie che siccome non le riconosci subito prima che venga riconosciuta gli vengono attribuite tutta una serie di stereotipi educativi e di falsi giudizi che vanno a inficiare l'autostima del soggetto che lo possiede nel corso di una serie di valutazioni che noi abbiamo fatto di studenti qui in università varie volte mi è capitato diciamo di sentire da questi studenti che nella ricostruzione della loro storia loro dicevano no no ma io sono solo lento io so leggere ma non credo di avere la dislessia io sono solo lento ma sono lento sono lento in tutti i compiti li faccio lenti a scuola sono sempre l'ultimo ero sempre l'ultimo a consegnare anche ora io non ce la faccio a fare quattro esami come fanno i miei colleghi a sessione io se ne faccio due sono contentissimo perché io di natura sono lento non è lento di natura è dislessico è diverso è completamente diverso e questo è un elemento importante perché quando noi abbiamo davanti un bambino un adolescente un adulto che ci sembra brillante intelligente competente ma che solo a scuola è lento che lo metti sui campi da corsa lo metti a far sport tra gli amici è brillante sociale ma solo a scuola è lento prima di dirgli non hai voglia sei sfaticato non se è lento pensiamoci proviamo a vedere come funzionano certe sue competenze il vero problema di tutti i disturbi del neurosviluppo quindi oltre al al problema specifico è tutta quella rete di ansia depressione opposizione negatività che insorge per contrastare e per dare un'immagine diversa a questa incapacità del soggetto che si senti attribuire che riconosce lui stesso perché sa che fa fatica in quel momento sa che non riesce a fare quella cosa ma che non corrisponde a un'altra parte della sua vita in cui lui non è per niente lento in cui lui gli sembra di capire cioè se io non riesco a leggere se io non riesco a fare automaticamente dice vabbè non ci arrivi ma poi dopo se sento la televisione se faccio dei ragionamenti io ci arrivo e allora anche internamente un bambino che immagine vive vive l'immagine che da una parte capisco da una parte non capisco allora forse sono svogliato allora forse non faccio bene le cose cioè è proprio tutto questo aspetto che è importante e che va considerato i criteri diagnostici che noi dobbiamo utilizzare quelli che fanno la diagnosi per esempio ci impongono di stare molto attenti a livello intellettivo io posso fare la diagnosi disturbo specifico dell'apprendimento solo in bambini che hanno un quoziente intellettivo nella norma se un bambino ha un quoziente intellettivo al di sotto della norma probabilmente il suo non leggere e scrivere non è un disturbo specifico dell'apprendimento ma è un disturbo generale dell'apprendimento che dipende da un livello intellettivo più basso e quindi da una lentezza globale degli apprendimenti e non specifica degli apprendimenti per fare un esempio il bambino che non riesce a leggere siccome legge male comprende anche con fatica se volete il testo della storia che ha letto ma se gliela leggo io deve capire subito in genere capisce subito lui non capisce quando legge lui perché la fatica che deve mettere per decodificare le parole gli fa perdere il senso quando leggo io lui può stare solamente a sentire e a decodificare il significato e quindi la comprensione funziona perfettamente per fare una diagnosi disturbo specifico dell'apprendimento oltre a livello intellettivo devo avere dei valori significativamente più bassi nella velocità di lettura nell'accuratezza di lettura ok quindi devo e ho della scrittura insomma no secondo del tipo di cose che teniamo in considerazione quindi quando prima di fare una diagnosi il profilo di funzionamento intellettivo di un ragazzo le prestazioni in compiti specifici l'attenzione e la memoria così come gli aspetti emotivi che possono inficiare parte del suo comportamento sicuramente se io faccio la diagnosi a un bambino di 7 anni gli aspetti emotivi sono meno importanti di quando vado a fare la diagnosi a un ragazzo di 18 anni o di 17 anni e tra l'altro una cosa interessante è che fino ad alcuni anni fa noi avevamo strumenti ma forse per quanto riguarda gli strumenti anche oggi non è che siamo messi bene comunque fino a un po' di anni fa la diagnosi si faceva quando eri bambino dopodiché basta ok in realtà ci siamo resi conto che è necessario molte volte fare la diagnosi anche tardi e per esempio ci troviamo persone a cui la diagnosi viene fatta anche quando arrivano in università perché perché più cresce la difficoltà del leggere e dello scrivere più si può evidenziare il problema bambini intelligenti e volenterosi capaci attenti in terza elementare quarta elementare quinta elementare non te ne accorgi perché basta che l'insegnante ha letto due volte la storia e loro la sanno leggere anche loro perché a casa invece di ripetere la lettura due volte la ripetono cinque l'hanno imparata a memoria a scuola leggono bene insomma perché hanno tutta una serie di strategie compensative per cui non te ne accorgi alle medie te ne accorgi un po' però basta che ci metti un po' più di sforzo e vai avanti certe volte si arriva veramente all'età adolescenziale ad accorgersene perché là le prestazioni sono più complesse più difficili e per molti anni noi ci siamo trovati nelle condizioni di non avere test per ragazzi tutta la testistica si chiudeva sui 14 anni come se a quel punto non ci fossero più cose quindi però quello che è importante che noi oggi sappiamo è che la patologia dura per tutta la vita chiaramente se si tratta man mano la persona sa come agire come compensare e noi nell'università dobbiamo mettere giù delle misure degli attenzioni per la persona va avanti con una certa tranquillità e con positività se non lo sa se non se ne è accorto se non ha lavorato abbastanza se non ha messo su strategie adeguate nel momento in cui si arriva a fare una diagnosi d'adulto c'è da fare un bel lavoro di ricostruzione e anche di sistematizzazione di schemi mentali e di strategie che possono essere usate in ogni caso ricordiamoci sempre che tutti questi disturbi si manifestano in una maniera estremamente diversa da un soggetto all'altro e che noi come fattori prognostici del risultato di un trattamento e cose del genere noi abbiamo prima identifichiamo meglio si va quanto più è possibile personalizzare e individualizzare l'insegnamento tanto più otteniamo diciamo un buon recupero mentre invece quando abbiamo diciamo molta ansia un contesto familiare molto pesante per cui lo vive male per cui fa pesare molto per cui stressa molto il figlio nel fatto di fare 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 molte volte non contribuisce a fare altro che affaticarlo ancora di più e quindi poi a non avere risorse per c'è bisogno di buone capacità metacognitive quindi anche di un buon esercizio sulla metacognizione per poter risolvere poter aggirare degli ostacoli se non viene fatto questo e si lavora solamente su una tecnica di lettura leggi 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 non sempre i risultati cioè generalmente non sono sufficienti né adeguati quali sono le cause io vi ho parlato di neurosviluppo in realtà come tutti i problemi del neurosviluppo hanno un intreccio fortissimo fra genetica e ambiente e genetica non è la genetica mendeliana che conosciamo da scuola ma genetica vuol dire fondamentalmente alcune piccole minimali alterazioni che avvengono nel padre o nella madre che non danno nessun effetto nel genitore in alcuni casi o danno effetto anche nel genitore in altri casi e che molte volte dipendono da fattori ambientali che hanno alterato piccolissime parti genetiche tipo il trasporto di alcune proteine lo strutturarsi di alcune connessioni che diventano poi pesanti difficoltose nel momento in cui vanno a costruire il cervello del bambino nella dislessia l'aspetto della geneticità è molto evidente e molto forte in genere padre nonno fratello zio cugino c'è sempre qualche dislessico a fine attorno ci sono famiglie di dislessici cioè noi abbiamo oramai una serie di famiglie trattate tutti e tre tutti e quattro i figli insomma perché in qualche modo la geneticità è molto forte l'interazione col fattore ambientale non dipende tanto da i fattori che possiamo dire lo smog sono piuttosto una serie di fattori di cui conosciamo anche poco che hanno alterato nel genitore il gene e che quindi poi viene trasmesso quindi non è che il bambino può nascere sano e poi diventa dislessico per un cambiamento ambientale non è che come con l'autismo invece non è che il bambino nasce sano fa il vaccino e diventa autistico insomma non sono questi fattori ambientali che possono alterare è un qualcosa che ha alterato la struttura genetica nel genitore o addirittura nei nonni e che passata nel genitore con una forma attenuata e diventa poi in quella persona là più forte che cosa succede a livello di aree cerebrali che sono coinvolte allora fino a 10-12 anni fa noi ritenevamo che fondamentalmente il deficit fosse un deficit fonologico quindi erano alterati fondamentalmente tutti i circuiti che erano deputati alla decodifica e alla produzione fonologica in realtà sicuramente questo deficit esiste anche ma si è visto che a fianco a questo deficit fonologico esistevano altre aree compromesse e che quindi il deficit fonologico non spiegava tutta la tipologia di dislessici per esempio il deficit fonologico è caratteristico di quei dislessici che hanno avuto anche difficoltà a parlare ok quei bambini che hanno un po' parlato tardi o che fanno tutti quegli errori di via F che dicono la voglia invece della foglia che non gli riesci a far pronunciare bene la S cioè che quindi hanno comunque delle difficoltà fonologiche molto probabilmente molto probabilmente se sono dislessici hanno una compromissione di più più specifica più settoriale nell'area fonologica ma esistono anche altre aree che in qualche modo sono compromesse che sono per esempio un deficit dei meccanismi sensoriali non linguistici che altrano i processi visivi e uditivi per cui io non riesco a decodificare bene il suono che mi viene o non riesco a vedere bene l'immagine quindi la lettera che ho e l'informazione quindi che ne ricavo di lettere e di numeri viene alterata perché non riesco a cogliere bene il posizionamento rispetto alle altre immagini per cui io ti posso invertire perché vedo invertito in qualche modo per cui io vedo invertito antanata vedo la N prima della A quindi è un processo di posizionamento diverso ancora il cervelletto che noi stiamo rivalutando molto nel senso che in tutte le patologie dello neurosviluppo il cervelletto ha un suo ruolo abbastanza importante in cui uno sviluppo immaturo del cervelletto può determinare tutta una serie di difficoltà nei processi di lateralizzazione per esempio di motricità di proprio coordinamento motorio che va a spiegare tutta una serie di disgrafie di difficoltà nella scrittura di alcuni ragazzini e poi diciamo quella che oggi viene un po' considerata uno dei centri fondamentali tutto quello che è la capacità di attenzione quindi di focalizzare l'attenzione su un particolare stimolo e quindi diciamo restando focalizzati riuscire a decodificare sembrerebbe che queste quattro componenti determinano delle alterazioni che danno vita se volete anche a delle differenze nella tipologia di disturbo perché possono dipendere da uno o dall'altra non possiamo dire che se una non è l'altra quello che possiamo dire in qualche modo con più precisione è che quelli che erano i circuiti iniziali del linguaggio quindi quelli che erano fondamentalmente le zone predisposte alla decodifica del linguaggio che si riteneva fossero le aree più compromesse della della dislessia sono oggi integrate per esempio all'alterazione sia di parti troncoencefaliche quindi parti di cervello antico in qualche modo sia a parti di corteccia frontale e prefrontale e quindi diciamo si sta dando una spiegazione che sempre di più si basa su un definirla una patologia multifattoriale quindi con un deficit fonologico se volete che ha la base che è presente e che spiega una parte di queste patologie ma a fianco diciamo tutta un'altra serie di compromissioni che riguardano funzioni cerebrali di tipo superiore tra cui ad esempio le funzioni esecutive che sono che hanno la loro localizzazione nei lobby frontali e che sono tutte quelle componenti che rendono possibile l'apprendimento sono le nostre funzioni più superiori e sono diciamo quelle che che vengono messe in atto quando si devono attivare delle risposte a situazioni a problemi a cose non note non conosciute pianificare creare strategie risolvere problemi cioè tutte quelle funzioni che devono intervenire al di là della routine ok devono intervenire per fare un salto mentale superiore sono le funzioni esecutive e sembra che nei disturbi specifici dell'apprendimento le funzioni esecutive stiano giocando un ruolo molto importante cioè siano una componente importante tra l'altro la carenza delle funzioni del funzionamento delle funzioni esecutive è presente in tutti gli altri disturbi del neurosviluppo perché è presente nei disturbi dello spettro autistico è presente nella DHD moltissimo ed è presente ovviamente anche nella disabilità intellettiva quindi sembrerebbe quasi che i disturbi del neurosviluppo stanno cominciando ad avere una connotazione come aree di non funzionamento delle funzioni esecutive che sono quelle che vengono esercitate per gestire compiti di livello superiore quindi per esempio per tutti i compiti di apprendimento per esempio la working memory cioè la memoria di lavoro io mi ricordo quello che sto facendo la capacità di focalizzare la capacità di dire faccio prima questo poi questo pianificare e la flessibilità cognitiva no aspetta volevo pianificare quest'azione ma questo compito non lo so devo tornare indietro perché non posso andare avanti quindi devo essere flessibile nel pensiero sono quattro delle componenti fondamentali che mi servono per l'apprendimento scolastico e che mi servono in qualche modo sia per la lettura che per la scrittura che per il calcolo si è visto per esempio che il funzionamento delle funzioni esecutive predice i risultati dell'apprendimento molto meglio del valore del quotiente intellettivo quindi se un ragazzino ha buoni valori nella memoria di lavoro nell'attenzione nella pianificazione e nella flessibilità ma c'è un quotiente intellettivo non altissimo può avere risultati di studio migliori di un suo compagno che ha un quotiente intellettivo più alto ma non ha ben funzionanti queste competenze un quotiente intellettivo più alto che per esempio è dato da una buona capacità di parlare di assumere informazioni attraverso il linguaggio di ordinare cioè tutta un'altra serie di compiti che ugualmente fanno l'intelligenza e nello specifico diciamo le funzioni esecutive sono determinanti in particolare diciamo in tutti i processi di codifica del testo e della lettura allora questo è quello diciamo che noi a questo punto noi sappiamo sul bambino sappiamo molto sappiamo come intervenire abbiamo tutta una serie di indicazioni sull'adolescente e sul giovane adulto come vi dicevo prima ci stiamo cominciando a fare e a lavorare ecco perché anche il servizio in università ha un peso e un'importanza notevole proprio perché è una cosa che normalmente non c'è non sappiamo neanche dove andare a tingere per dire è stato già fatto così così e così no quello che va in qualche modo conosciuto è detto è che non possiamo immaginarsi che un adolescente o un adulto con una difficoltà nell'ambito del leggere e dello scrivere abbia solo quel pezzetto di difficoltà ok sicuramente c'è una compromissione più ampia della sua persona se non fosse altro per gli stati d'ansia se non fosse altro per le attribuzioni negative che ha se non fosse altro per un'inferiorità che recepisce con cui si pone rispetto a certi compiti detto ciò però noi troviamo in università o in età adulta fondamentalmente due tipologie di dislestici quelli che noi chiamiamo dislestici compensati cioè sono quelle persone che oramai leggono bene hanno delle difficoltà ma le hanno gestite fondamentalmente hanno mantengono però delle difficoltà nella memoria di lavoro per esempio nella memoria a breve termine nelle funzioni esecutive c'è qualcosa che non va ma questo ce ne accorgiamo con i test se no non ce ne accorgiamo di cosa ci accorgiamo di queste persone che sono estremamente affaticate quindi si stancano prestissimo e fanno molti errori ok tu dici io non arrivo a capire perché questa persona colta questo o l'altro quando scrive mi piazza errori da tutte le parti per esempio sono le persone che fanno una fatica bestiale e scrivono in inglese ok che possono veramente non riuscire assolutamente e tu dici non ha proprio studiato perché se mi fai il compito di ingegneria e lo fai bene mi fai il compito di matematica e l'esame di matematica lo superi se non superi quello dell'inglese perché non hai studiato cioè verrebbe ovvio pensare così perché noi pensiamo che nella classifica la matematica il compito di matematica è più difficile e poi tutto quanto è quello dell'inglese non sta all'ultimo posto cioè al primo posto della difficoltà sta al posto che se lo studi non vai e questo è un grave errore per esempio quando parliamo di dislessia ci sono invece e questa è la maggior parte dei nostri studenti ci sono invece dei dislessici persistenti cioè che sono quelli che ancora mantengono alterati i parametri di velocità di accuratezza e che quindi fanno comunque molti errori hanno una lettura stentata devo dire che qualcuno c'è in università ma queste sono le persone che qui si dice non si è adatto a studiare ma se uno legge così che vai avanti non puoi andare avanti insomma senti di gente ma fanno altra roba ok quindi sono quelli che sono decisamente sconsigliati di proseguire ma che già alla fine della terza media hanno fatto le scuole professionali molto probabilmente perché è sconsigliato a una persona che legge stentato pensare che possa andare possa fare degli studi così un adulto dislessico in un luogo di lavoro o in un'aula scolastica in un'aula universitaria ha delle particolarità e delle caratteristiche che dobbiamo conoscere per cui per esempio è uno che non si sa organizzare una persona con un disturbo specifico dell'apprendimento in particolare i disgrafici ma vanno bene anche i dislessici non si sa pianificare la giornata si dimentica le cose è disorganizzato sta facendo una cosa e ne passa a fare un'altra posso farmi una prenotazione del treno per un giorno o per un altro perché non leggo bene i numeri o perché sono cioè ci sono sono delle persone che tu dici ma insomma come fai a star qua no? se non sai fare queste cose minimali rapporto con i colleghi non sempre è facilissimo perché il collega gli attribuisce la terza volta che sbagli il biglietto del treno insomma datti una mossa insomma noi possiamo sta a correggere e a cambiare ogni volta e intanto quello è un problema per lui non deve farli i biglietti del treno deve fare altre cose in un ufficio insomma non può far biglietti del treno in realtà appunto siccome pensiamo gli diamo attribuzioni diverse da quello che lui è perché non sappiamo che è dislessico molte volte non lo sa neanche lui e chi lo sa fa fatica a dirlo e questo è un grave errore e bisogna proprio la settimana della dislessia devono avere questo significato via i preconcetti cioè è un erosviluppo diverso è una neurodiversità di cui possiamo parlare non è una vergogna di cui nasconderci perché se ne parliamo la gestiamo non ti metto a fare biglietti fai delle cose su cui sei bravo insomma come cosa e quindi non è cioè non è che va bene ti sei laureato e poi sono finiti i problemi oppure vai a lavorare e sono finiti i problemi il problema sussiste perché è una patologia che degli aspetti se li porta avanti per tutto il corso dello sviluppo per tutto il corso della vita e va in qualche modo riconosciuta perché nel momento in cui la riconosco abbasso moltissimo tutte le complicanze secondarie tra cui per esempio i grossi problemi fisici da stress uno stress continuo a far finta che tu sei capace e a far finta che tu quindi c'è un numero di persone che hanno problemi di ansia enormi hanno sommatizzazioni cioè ci sono tutta una serie di patologie correlate che dipendono fondamentalmente dal non dire non riconoscere certi aspetti della cosa è questo diciamo uno dei motivi per cui sui disturbi specifici come con le altre patologie noi ci teniamo a sottolineare che non stiamo più parlando di deficit non è che stiamo parlando di uno che ha un deficit e non sa leggere è disabile in un'area stiamo parlando di neurodiversità di persone che hanno sviluppato un cervello diverso in cui sicuramente delle aree sono meno funzionanti ma attenzione ce ne sono altre che sono molto più funzionanti dove per esempio la capacità percettiva la percezione globale o la capacità metacognitiva o la capacità di collegamento semantico fra le parole il collegamento semantico sono molto più elevate un po' perché sono funzionanti un po' perché le hanno distratte di più per compensare per cui dobbiamo semplicemente come dire conoscere questa neurodiversità sapere come funzionano e prima di tutto compito nostro da una parte e anche di chi si rapporta con loro poterne parlare con tranquillità cioè compito nostro in questo campo nostro sono le psicologi è quello di aiutare il soggetto a capire dove funziona dove funziona bene dove funziona abbastanza e dove proprio invece fa fatica e quindi dargli la consapevolezza di questo e anche la possibilità come dire di rapportarsi all'altro dicendo aspetta scusa se devo leggere questo bisogna un attimo di tempo invece di far finta che leggo benissimo come questo diciamo il concetto di neurodiversità passare dal deficit alla neurodiversità aiuta anche a livello psicologico e aiuta a livello relazionale con le persone con disturbo all'aspetta autistico ecco mi sembra che queste sono le principali informazioni da avere poi ce ne sono altre poi dopo entriamo entrate anche meglio in quello che si fa in università mi preme un attimo dirvi però che noi siamo arrivati a questo con risultati di ricerche degli ultimi 7-8 anni sono molto recenti non sono ricerche ripeto il neurodiversità ne abbiamo cominciato a parlare nel 2013 quindi sono cose veramente molto nuove e in università abbiamo un bel gruppo di ricerche di docenti che lavorano su questo ambito grosso modo abbiamo vabbè alcune ricerche che facciamo noi il laboratorio di osservazione diagnosi e formazione al DIPSCO sulle funzioni esecutive e sui training quindi sulla parte clinica fatte anche in collaborazione con i colleghi di informatica poi ci sono alcune ricerche più a consorzio su come leggere i libri digitali fatte dal DIPSCO dal DSI FBK e San Raffaele di Milano ci sono due ricerche sulla discalculia e sulla acquisizione del concetto di numero e ci sono invece alcune ricerche più tecnologiche su strumenti che possono aiutare brevemente vi dico alcune cose e ovviamente tirando l'acqua al mio mulino vi parlo di più delle ricerche che facciamo in laboratorio ma non perché sono più importanti ma perché le conosco fondamentalmente dove stiamo lavorando su quelle che dicevo le funzioni esecutive sulle parti nuove di funzioni mentali e stiamo cercando di capire quali training quali esercizi quali attività si possono fare per migliorare le funzioni esecutive e come queste si riflettono nelle abilità invece della dislessia a noi interessano per la dislessia interessano per l'autismo visto che sono le due grosse patologie che studiamo noi in laboratorio allora abbiamo fondamentalmente tre tipi di studi da un primo studio siamo arrivati a capire che il training al computer quello che viene chiamato training neurocognitivo ci dava anche se noiosissimo perché era un training noiosissimo al computer dava risultati migliori di training sublessicali che sono dei training classici fatti vis a vis con la persona probabilmente perché ai ragazzini comunque il computer piaceva di più probabilmente perché non venire a farlo ma comunque poterlo fare a casa era comunque più facile probabilmente perché fa giocare di più l'attenzione fa giocare di più il visivo che in genere è una delle parti che va lavorata insomma comunque da questo primo studio noi ci siamo resi conto che i profili cognitivi ci davano ci dicevano ci davano una prospettiva di dove si andava si avevano dei miglioramenti comunque migliori la motivazione era abbastanza alta il senso di autoefficacia del bambino era buono e i genitori erano fondamentalmente soddisfatti ripeto il training era noiosissimo proprio veramente non l'avrei fatto mai io come cosa allora con la professoressa di Angeli del DC abbiamo cercato di lavorare sul fatto di migliorare questo training di renderlo meno noioso e quindi ci siamo messi assieme un gruppo di programmatori di dottorandi diciamo della professoressa di Angeli e dottorandi miei per cercare di creare un videogioco che andasse proprio nella direzione dei videogiochi che piacciono ai ragazzini solo che il videogioco fosse diretto esplicitamente a far lavorare su alcune componenti dei disturbi specifici dell'apprendimento il videogioco è stato creato con una tecnica molto cara agli informatici che è quello della progettazione con il gruppo di bambini che si va a costruire la storia e cose del genere è nato questo videogioco dal nome impossibile Sky of Manowak di cui vi faccio vedere un pezzetto ora mi piace come sempre ecco qua per la visione la visione memorizza i simboli ripetuti nell'ultima cosa è proprio memoria di lavoro, esercizio di memoria e quindi passi il grado no? Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 una serie di problemi nelle persone che non riescono invece a leggere. Quindi con i movimenti oculari si riproduce a voce quanto viene scritto. Questa è una bella applicazione. L'altro grosso team di lavoro che abbiamo fatto era leggere i libri digitali appropriati in maniera appropriata, cioè ci siamo resi conto che esistono tutta una serie di libri digitali, famosi book e cose del genere, che potrebbero essere migliorati tantissimo, anche per soggetti con dislessia, con tutta una serie di accorgimenti che vanno da, per esempio, la grandezza del fonte, la distanza, la presenza di notte, la non presenza, cioè tutta una serie di accorgimenti che fanno leggere molto più velocemente e con molto meno errori i libri digitali. Chiaramente questo serve anche per i lettori tipici, ma chiaramente con i lettori dislessici ci permette di avere risultati migliori e quindi si va ad agire sul testo, sulle caratteristiche del testo e non necessariamente su un qualcosa in più che viene dato alla cosa. La parte di analisi di cose è stata più complessa perché si lavorava con l'ightracking e cose del genere, però poi dopo sono diventati tutti dei risultati che possono essere implementati in chi produce libri. Le altre due ricerche che sono fatte fondamentalmente dalla professoressa Piazza, che è un'esperta di numero, sono delle poche ricerche, sono forse le prime ricerche che vengono fatte sulla discalculia, in cui fondamentalmente lo scopo di una ricerca è quello di cercare di capire se la discalculia come la disgrafia ha delle alterazioni e delle caratteristiche tipiche, specifiche di un settore, o se comunque invece è una compromissione più ampia e più generale del concetto di numero. In realtà quello che emerge è che i discalculici hanno molte volte una compromissione più ampia del concetto di numero, che non è solamente legata, è proprio legata al numero, mentre invece per esempio non è legata alla grandezza. Quindi se io devo valutare la grandezza di oggetti, così non sono capace di valutarla, ma se devo valutare la numerosità e quindi la grandezza applicata al numero, lì ho difficoltà. E quindi è il senso di numero, non il senso di grandezza, quello che viene compromesso. Anche diciamo altre ricerche in cui abilità specifiche, dominio specifiche e dominio generale, nei bambini con discalculia si è visto che esistono una serie di deficit, sempre gli stessi, memoria visuo spaziale a breve termine che abbiamo già visto, che in qualche modo inficiano anche la generale acquisizione e lavoro sul numero. Sulla discalculia, come vi dicevo, c'è pochissimo, queste sono le prime ricerche che sono fatte e credo che hanno una grossa importanza. Lavorare su questi temi, come vedete dai nomi, implica comunque grosse reti, perché anche in questo caso ci lavorano la professoressa Piazza del CIMEC, ci lavorano colleghi del Dipsco, ma siamo per esempio con l'azienda sanitaria, cioè è necessario comunque creare delle reti di ricerca, sia per avere i pazienti, sia per discalculi, non ce ne sono tantissimi per fortuna, per cui per fare un po' di ricerca bisogna avere, sia proprio per mettere insieme competenze diverse, perché come dire, la competenza di uno non basta a poter fare progetti più ampi. Secondo me nel caso del videogioco è proprio chiaro, insomma, nessuno di noi si sarebbe potuto inventare una tipologia di esercizi così divertenti come un videogioco. Ecco, io vi ringrazio e se ci sono domande... Grazie Paola per questa interessante introduzione al mondo di SA. Ci sono domande? Ricordo che c'è la possibilità anche alla fine di una breve tavola rotonda con eventuali domande. Volevo chiedere, ha affermato che i fattori ambientali non hanno influenza sul bambino, nel senso che l'origine dei DSA sembra essere genetica, quindi dai genitori al neonato. E perché questi fattori ambientali possono aver influito sul genitore e non possono influire sul bambino? In seguito potranno anche influire sul bambino, ma l'alterazione viene prima dell'esposizione del bambino all'ambiente. Questo dicevo non hanno... L'alterazione è cerebrale nella fase di gestazione, quindi il bambino ancora non è esposto all'ambiente direttamente lui. E da cosa si capisce questo? Che l'alterazione è avvenuta nella fase gestazionale se con una risonanza magnetica non si può vedere? Con tutte le tecniche funzionali di studio. Non lo vediamo con la risonanza magnetica, ma con la risonanza magnetica funzionale, per esempio, sì. O con le PET e cose, cioè con gli strumenti funzionali, le neuroimmagini funzionali, noi riusciamo a capire il funzionamento e le alterazioni dove sono. Perciò in questi anni si è cambiato tanto e abbiamo delle informazioni un po' più accurate di come erano in tempo. Però queste indagini vengono fatte solo nel momento in cui si sospetta un disturbo. Certo. Quindi potrebbe esserci stato un fattore ambientale intervenuto dopo la nascita. Se è un fattore cerebrale di funzionamento del cervello, non è un fattore ambientale. Cioè noi non possiamo dire che la pollution, l'inquinamento, diciamo, determina delle cose, perché non abbiamo nessun tipo di studio che ci conferma che un funzionamento del cervello può essere alterato da questo, insomma. Possiamo sicuramente dire... È chiaro che poi nel bambino ci saranno dei fattori ambientali che potranno influenzare. Sicuramente sono tantissimi fattori ambientali che influenzano, per esempio, la progressione o regressione della patologia. Ma non abbiamo connessioni, studi di connessione tra fattore ambientale e struttura del cervello. Grazie. Le domande? La ringrazio perché in effetti, soprattutto nella prima parte, è riuscita a rendere in modo davvero semplice degli argomenti che sono molto complicati. Mi chiedevo solo questo. Siamo nella settimana della dislessia, quindi giustamente ha evidenziato molto tutti gli aspetti collegati a dislessia. All'inizio c'era quella slide dove nella DSA chiaramente avevamo questo pallogramma, per cui c'era dislessia, discasculia, disortografia, poi alla fine ha ripreso un po' il discorso discasculia rispetto alle ricerche. Mi chiedevo quanto è l'esposizione che ci ha fatto rispetto ai comportamenti o agli atteggiamenti del soggetto affetto da dislessia, quindi la svogliatezza, la lentezza. Sono generalizzabili anche nelle altre tipologie di DSA o invece quanto sono specifiche per la dislessia? Sono assolutamente generalizzabili. Chiaramente l'entità è diversa, perché se un soggetto è dislessico, disgrafico, disortografico, discalculico, è un po' più pesante la situazione. Un soggetto solo disgrafico, quindi che scrive male, lo cogliamo quasi mai, resta un adulto che scrive male, che poi è disorganizzato, che non si sa organizzare le cose, che perde i treni, che non sa, ok, però è difficile anche che lo diagnostichiamo, perché oggettivamente è meno inficiante, insomma, come cosa. E però sa lo studente che alla fine parla benissimo l'inglese, ma fa quegli errori di scrittura in inglese che tu dici, ma com'è possibile che uno che parla così bene l'inglese fa questi errori, no? E quindi il disgrafico, però complessivamente, diciamo, le caratteristiche, le attribuzioni sono le stesse, insomma, chiaramente l'intensità, se hai solo la disgrafia, se hai solo la disortografia, già è più pesante, perché la disortografia è inficiante, nel senso che uno che non si scrive, fa metti A con l'H e senza H, è problematico. Sì, quindi di conseguenza le misure compensative e dispensative, che peraltro dovrai forse conoscere, però, insomma, vuol dire, è un tema a cui ci stiamo avvicinando anche da funzione dei servizi, chiaramente dipendono in funzione della presenza di una sola, piuttosto che in abbinamento. Esatto, esatto. Non do una misura, diciamo, dispensativa a un disgrafico uguali a quella che dà un dislessico, insomma, a un disortografico come... Tre domande in fondo? Aspetti che, siccome stiamo registrando, è importante il microfono. Volevo chiedere semplicemente, dislessia, lingua nativa e L2, cioè un soggetto può essere dislessico, come dire, per la propria lingua o anche per tutte le altre lingue o semplicemente... Se è dislessico, è dislessico in tutte le lingue. Chiaramente nella propria lingua fa meno fatica a leggere e a scrivere delle altre lingue, perché, come dire, è più familiare, quindi il discorso dell'abitudine che facevo prima nella propria lingua è più facile, come dire, certi nomi, certe parole, certi fonemi hanno girato di più nella sua testa rispetto a una L2, insomma. Però non puoi essere dislessico in italiano e non in inglese, insomma. Un'altra domanda? Non so cosa dice la ricerca scientifica in questo proposito, ma è possibile che si manifesti un DSA in età adulta, cioè non in età avanzata? Sì, è possibile che ce ne accorgiamo in età adulta, è del discorso che facevo all'inizio. Quando sei piccolo riesci a compensare più facilmente perché hai delle richieste meno pesanti, insomma. A un certo punto nell'età adulta, per fattori diversi, tra cui anche forse l'energia personale che è inferiore, la forza di compensazione che crolla un po', è possibile che si manifesti la problematica. Era comunque presente in età. Era comunque presente e hai compensato. Ma non è stata compensata all'inizio e poi a 35-40 anni se uno non si esercita. Per tanti fattori, tra cui anche, ripeto, l'energia fisica può essere, si evidenzia. Grazie. Volevo solo chiedere, siccome non ho capito una precisazione, rispetto ai giochi per i bambini che aveva proposto, lei intende che lavorare sulle funzioni esecutive ha riportato migliori risultati rispetto a lavorare sulla funzione specifica, nel senso di lettura? Sì. Probabilmente, per una questione di motivazione anche, cioè probabilmente il videogio... Sicuramente per ora abbiamo dei migliori risultati nel lavorare sulle funzioni esecutive rispetto agli apprendimenti di lettura e scrittura che lavorare con il training classico, diciamo, su questo. Potrebbe essere, e questo ancora non è indagato, che c'è una maggiore motivazione a lavorare sulle funzioni esecutive perché ci lavoro col videogioco e così via, no? Dovremmo provare a fare un confronto o di due videogiochi che non è possibile oppure di due esercizi noiosi entrambi. Ma dal suo punto di vista questo potrebbe andare a, come dire, eliminare la parte specifica di esercitazione su decifrazione? No, potrebbe ridurla e potrebbe esercitare molto prima le funzioni esecutive che servono per tantissime cose. Per entrambe le parti, diciamo, che sarebbero necessarie o appunto questa parte di lavoro sulle funzioni esecutive potrebbe andare a eliminare totalmente? Non glielo so dire ancora, è troppo presto per tirare questa conclusione. Sicuramente io non me la sento di dire in questo momento non facciamo esercizi di lettoscrittura, però. Però potrei pensare che un bambino che fa fatica, per esempio, a sette anni, invece di fargli fare ore di lettura, se gli esercito di più le funzioni esecutive, forse potrebbe apprendere più facilmente lui il leggere e quindi a quel punto mi risparmierei tutto un pezzo di lavoro noioso per il bambino. Grazie. Diceva che per quanto riguarda le attività di scrittura e lettura sono molto più difficili e il soggetto fa molta più fatica, no? E mi chiedevo se si fa la stessa fatica a scrivere a penna e la cosa può essere risolta, ad esempio, con il computer, e quindi, non so, una prova scritta del centro linguistico, se viene fatta con la tastiera anziché con la penna, se può essere... Generalmente sì, generalmente per tutto il disgrafico, il disortografico, il computer, ma anche per il dislessico, in linea di massima il computer aiuta. Ci sono dei soggetti in cui non è vero questo, perché magari non sono stati abituati, però oramai le generazioni di oggi, in genere, sicuramente la fatica, il disgrafico sicuramente, la fatica che fa a scrivere con la penna, diciamo, non la fa scrivendo al computer, e un disgrafico che scrive al computer riesce ad avere delle produzioni di testi molto più organiche di quando la fa penna, per esempio. Le prove vostre avete il problema della lingua, però, che è il più forte, eh? Ok, se non ci sono altre domande, una breve, da parte mia, una curiosità, tu prima hai citato nonno dislessico, papà dislessico, quindi c'è una certa prevalenza nei maschi rispetto alle femmine? No, no, ho citato per deformazione dell'autismo, perché io mi occupo più di autismo e sono deformata alla prevalenza maschile, ma non credo che nella dislessia ci sia una prevalenza. Che può essere interessante da un punto di vista genetico. Lo sa più di me, Antonella, c'è anche sul... C'è una prevalenza, gli ultimi studi hanno dimostrato che c'è una prevalenza per linea maschile, per alcuni tipi di DSA, in particolare quelli legati alla letto-scrittura, invece sembra che la parte più matematica sia attribuibile al genere femminile. Perché c'è anche se non capiscono mai la matematica e le donne. Però sono comunque dei dati che sono da confermare. Interessante per quanto riguarda l'aspetto genetico. Sì, sì. Ok, se non ci sono altre domande, grazie. Io vi parlo brevemente, in dieci minuti, di quelli che sono i servizi offerti dall'Ateneo. In generale non andrò troppo nel dettaglio, parlerò soprattutto dei DSA, anche se poi dopo la collega Mirati andrà più nel dettaglio. Io sono delegato del rettore per le disabilità e DSA. Questo DSA è stato aggiunto recentemente a questa delega, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della legge del 2010, che in qualche modo andava a supportare, a dare, diciamo, delle garanzie e introduceva delle misure compensative e dispensative per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Questa è una delega, la delega di disabilità e DSA, è l'unica delega prevista per legge. È la legge a cui fa riferimento, la legge del 1999, che è un'estensione della legge 104, più famosa. Questa legge del 99 di fatto ha obbligato le università a dotarsi di un ufficio, che oggi si chiama ufficio inclusione, e di un delegato a supporto, appunto, delle iniziative per gli studenti con disabilità e ultimamente anche con DSA. Faccio vedere solo due grafici, per non farvi addormentare. Questi due grafici sono grafici interessanti, innanzitutto perché è il primo studio che è stato realizzato nel 2017 dal Censis, il primo studio che va a vedere qual è la situazione degli studenti con disabilità e DSA nell'università italiana. In questo studio ha partecipato circa i tre quarti dell'università italiana, tra cui il nostro Ateneo. Vedete che in rosso, questo è l'andamento sul numero degli iscritti, parliamo degli anni accademici 2012, 13, 14 e 15, vedete che c'è una certa deflessione degli studenti iscritti nell'università italiana, e invece in blu vedete gli studenti iscritti con disabilità che sono in controtendenza. Quindi c'è un numero maggiore negli ultimi anni di studenti con disabilità, qua parliamo di disabilità maggiore del 66%, che si iscrive all'università. Se andiamo ad andare a vedere il dato di DSA, il discorso è analogo. Qua i colori sono invertiti, in blu vedete gli iscritti totali all'università, e invece in rosso vedete gli iscritti all'università con gli istituti specifici dell'apprendimento. Quindi si tratta di un andamento in controtendenza, che ovviamente ha in qualche modo spinto le università ad attivare una serie di servizi proprio per far fronte a queste nuove richieste. Qual è la situazione qua a Trento? Questi sono i numeri di Trento, in azzurro vedete gli studenti iscritti con disabilità, qua parliamo di disabilità varie, disabilità motore, disabilità visiva, la disabilità sensoriale uditiva, la vedete in verde, e qua vedete i numeri invece degli studenti iscritti con DSA. Vedete che qua praticamente la curva inizia nel 2011, proprio perché la legge è entrata in vigore nel 2010, e quindi noi abbiamo iniziato a tracciare questi studenti, ad attivare i servizi più o meno in quel periodo. Come siamo organizzati qua a Trento l'ufficio inclusione? Beh, abbiamo creato un coordinamento delle disabilità che prevede appunto la figura del delegato del rettore, ogni centro, ogni dipartimento ha un suo delegato. Ci troviamo un paio di volte, tre volte all'anno per discutere di problematiche, eventualmente di organizzare degli eventi, e ultimamente ci stiamo anche in qualche modo adottato di un comitato tecnico-scientifico con degli esperti, soprattutto per quanto riguarda i disturbi specifici dell'apprendimento, l'autismo, e da un anno a questa parte coinvolgiamo anche membri del CLA, il Centro Linguistico dell'Ateneo, proprio per le ricadute che gli disturbi specifici dell'apprendimento hanno in questo servizio. Abbiamo uno staff, come vedete qua, con i nomi responsabili, persone che ringrazio, perché svolgono un lavoro eccezionale, eccezionale, nei confronti rispondono alle esigenze degli studenti, e abbiamo poi una componente invece, neurodiversità, che comprende fondamentalmente tre sportelli, lo sportello di consulenza psicologica, che non è indirizzato solo agli studenti con disabilità, ma a tutti gli studenti, abbiamo uno sportello appunto di S.A., di cui parlerà a breve la collega Mirati, e infine, ultimamente, abbiamo anche attivato uno sportello autismo, questo è un progetto strategico di Ateneo che abbiamo iniziato, è forse il primo in Italia, ce ne sono pochi a livello europeo, e supporta appunto, è un po' un punto di riferimento per studenti che soffrono del disturbo d'aspetto autistico ad alto funzionamento. Importante sono le collaborazioni poi con l'opera universitaria, per quanto riguarda la parte logistica degli alloggi, e ovviamente tutti gli uffici dell'Ateneo. Per quanto riguarda un po' la logistica, gli ausili, e le varie dotazioni, qua è semplicemente una slide che riassume un po' tutti quelli che sono lì appunto gli ausili e le dotazioni che noi offriamo agli studenti con disabilità e con DSA, la cosa importante che vorrei sottolineare è la presenza della carta dei servizi che si può vedere sul nostro sito web, che è stata approvata nel 2014, è una carta che elenca tutti quelli che sono i servizi che l'Università di Trento offre agli studenti con bisogni educativi speciali, e che è anche un impegno forte da parte dell'Ateneo per venire incontro a quelle che sono le necessità degli studenti con questi tipi di bisogni. Una cosa che abbiamo fatto, questo grazie in collaborazione con gli stessi studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, in particolare un gruppo di dislessici, che è una comunità molto forte, molto attiva da questo punto di vista, è una modifica di S3, prima parlavamo di lentezza, ecco il sistema S3 è molto lento, se si vuole fare delle modifiche, appunto S per slow, abbiamo fatto una modifica al sistema S3 in modo tale che i colleghi docenti potessero in qualche modo avere un'informazione, un campanello di allarme quando uno studente con bisogni educativi speciali si iscriveva ad un determinato esame. Questo è un lavoro che è stato fatto, dicevo, con gli stessi studenti con disturbi specifici dell'apprendimento e siamo stati forse i primi in Italia ad attuare questo tipo di modifica. Quindi il docente nel momento in cui vede questa bandierina cliccando vede poi quelle che sono tutte le misure compensative e dispensative di cui lo studente ha bisogno e ha diritto. Al di là di quelli che sono un po' i servizi che noi offriamo, l'inclusione, diciamo, la filosofia che c'è dietro è la seguente, innanzitutto l'inclusione è una sfida perché ci spinge sempre a fornire nuovi servizi, servizi sulla persona e dall'altra parte è anche un'opportunità per fare innanzitutto cultura, promuovere la cultura della diversità e soprattutto è una possibilità per fare ricerca ed innovazione. I servizi che noi offriamo vanno in diverse direzioni, anzitutto siamo molto attenti all'accessibilità, accessibilità non solo alle strutture, ma accessibilità per esempio anche ai documenti, prima si citava i documenti, i libri digitali. Noi abbiamo un sito web, siamo sicuri che il nostro sito web sia accessibile? Avere un sito web è facile, ma fare un sito web accessibile, e mantenerlo accessibile è abbastanza difficile. La comunità europea ha dato delle linee guida per la creazione di siti web accessibili, noi abbiamo guardato queste linee guida assieme agli delegati per la disabilità delle università italiane e francamente queste linee guida erano poco accessibili a loro volta, per cui molte università hanno modificato queste linee guida rendendolo più a loro volta accessibili. Comunque occorre prestare molta cura al sito web in modo tale che tutti possono accedere alle informazioni e ai servizi. Si diceva prima se un'informazione, se un qualcosa di scritto è accessibile per un dislessico è ancora più facile che una persona normale colga in maniera immediata il messaggio. Ovviamente poi ci sono i servizi, abbiamo poi i supporti ed infine la mobilità. La mobilità che non è solo mobilità all'interno delle strutture dell'Ateneo ma anche diamo la possibilità, stiamo cercando la possibilità di favorire la mobilità anche per esempio in altre università. Quindi mobilità outcoming e con i nostri servizi cerchiamo anche di ricevere studenti con disabilità provenienti da altre università. Per far questo abbiamo creato un network che si chiama Uni3V che è un coordinamento dell'Università del Triveneto per l'inclusione. Questo network è stato creato lo scorso anno e che va proprio in questa direzione cioè cercare un attimino di fare network e di scambiarci le buone prassi in questi due giorni parleremo di buone prassi in diversi ambiti e cercare di portare avanti di sensibilizzare non solo il personale tecnico il personale amministrativo ma anche e soprattutto i colleghi docenti su queste tematiche e fare in modo che i studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali in qualche modo abbiano possano in qualche modo andare avere una mobilità non solo all'interno della nostra Università ma anche all'estero. ok questo è quanto se ci sono domande o chiarimenti sono un docente volevo chiedere una cosa quando S3 ci dà l'informazione del problema di DSA in uno studente noi dobbiamo attivare automaticamente quelle misure che sono indicate oppure dobbiamo sempre aspettare ecco qual è la buona prassi in questo caso o dobbiamo sempre aspettare la richiesta dello studente cioè lo studente si deve palesare su questo piano qual è la corretta prassi su questa questione rispondere tu grazie le rispondo io solitamente quando voi come docenti su S3 visualizzate le misure visualizzate le misure che potenzialmente quello studente ha diritto per il suo profilo diagnostico e per la sua storia scolastica le misure effettive per il singolo vostro esame invece lo studente tra quelle le sceglie e ve le comunica in tempo debito via mail perché allo studente viene dato un po' il diritto all'interno di quello che è un po' una cosa che viene condivisa cioè quali misure tu puoi tra tutto il range di misure utilizzare però gli viene data la possibilità di scegliere anche di non utilizzare nessuna misura per un esame questo sempre nell'idea che non sia un'etichetta non sia tracciato ma per lasciare appunto la libertà di scelta allo studente ecco magari in molti casi non è lo studente che va dal docente ma in molti casi lo studente fa riferimento al delegato del dipartimento e poi il delegato del dipartimento si interfaccia con il collega cioè in ogni caso non deve essere il docente che attivamente cioè se ho capito bene non è il docente che attivamente sapendo questa cosa diciamo contatta lo studente è sempre lo studente che è questo in senso questo è quello che diciamo gli studenti anche perché appunto come sottolineava non tutte le misure compensative o dispensative di cui lui ha diritto o bisogno possono essere applicabili o sono applicabili a quel tipo di particolare di prova di esame questo se posso inserirmi in che misura noi docenti possiamo in un certo qual modo anche allo scopo noi stessi di diventare sempre più consapevoli contribuire all'individuazione delle misure dispensative o compensative mi riferisco per esempio l'alternativa tra una prova scritta con un tempo più lungo oppure la sostituzione della prova scritta con una prova orale noi docenti in realtà tra l'altro sempre di più riflettiamo o siamo chiamati a riflettere su quali siano le modalità di verifica dell'apprendimento più appropriate e diati gli obiettivi formativi di un certo insegnamento quindi anche la scelta tra una prova scritta e una prova orale la prova scritta strutturata in un certo modo piuttosto che in un altro risponde a degli obiettivi che sono gli obiettivi formativi dell'insegnamento nel momento in cui si inserisce questa variabile esterna che per noi esterna voglio dire che è ovviamente la difficoltà dello studente dobbiamo ricollocarla all'interno di un insegnamento che però continua ad avere quegli obiettivi formativi cioè in che misura noi possiamo dialogare anche con voi o con lo studente per capire quale delle misure dispensative o compensative siano più appropiate per quell'insegnamento dato lo studente Allora un po' l'idea è quella sempre di lavorare in rete per cui quello che facciamo noi nell'incontro con lo studente come sportello non è precluso poi ad avere un contatto né con il delegato per esempio di dipartimento né con il singolo anche docente perché a volte capita che mi chiami il singolo docente che si è confrontato col delegato ma ancora non ha avuto la risposta insomma che cercava e quindi ha bisogno di avere chiarimenti Allora tendenzialmente le misure sono un cambio di modalità affinché però ci sia un incontro tra quelle che sono le esigenze specifiche dello studente e senza invece alterare quello che è l'obiettivo della valutazione didattica di una prova d'esame fatta dal docente quindi tendenzialmente si cerca sempre di chiedere una misura che rispetta la tipologia per esempio di valutazione che il docente ha proposto nel momento in cui quindi per esempio prova scritta prova orale se il docente prevede una prova scritta tendenzialmente si privilegia la prova scritta con il tempo aggiuntivo qualora questa non vada bene e porti comunque a insuccesso lo studente lo studente di solito si rivolge allo sportello piuttosto che al servizio inclusione e lì parte poi la collaborazione con il docente perché per esempio anche per me è fondamentale capire che cosa il docente vuole valutare e quanto quella misura non vada a diciamo privilegiare per esempio quello specifico studente anche in relazione agli altri quindi si tende a un po' a gestire i due aspetti insieme ci sono esami ad esempio scritti che possono durare che durano due ore uno studente che ha diritto al 50% in più devo calcolare che il tempo si allunga ulteriormente per questo se lo studente ha problemi questa fatica ulteriormente lo studente stesso quindi prevedere una forma differente oppure spezzare in due esami o ridurre altre domande? Grazie volevo capire un po' meglio il ruolo dello sportello lo sportello DSA o lo sportello autismo come si pone rispetto ovviamente all'utente quindi allo studente che si presenta o anche rispetto ad altri servizi d'Ateneo? Ok per questa domanda forse è meglio rispondere direttamente la dottoressa Mirati con la sua presentazione perché è proprio specifica sull'interazione tra lo sportello appunto e gli studenti va bene registrano qui e per tornare sulle modalità di esame sia dispensive che compensi nel caso degli esami di lingua la difficoltà è che dobbiamo testare le quattro competenze quindi abbiamo sia l'orale che lo scritto e in due modalità produttiva e ricettiva spesso ci accorgiamo che lo studente ha delle difficoltà la mia domanda è estremamente semplice noi in quanto abbiamo il diritto di decidere delle modalità o dobbiamo assolutamente riferirci al servizio inclusione cioè chi precisamente ha la competenza per decidere della modalità e della forma dell'esame allora solitamente la competenza è una competenza partecipata nel senso che noi come supporto psicologico quello che facciamo è quello di tradurre quella che era la relazione clinica dello studente integrarla con la sua storia e quindi di dare delle indicazioni che siano fruibili per i docenti tutti per poter cambiare modificare o pensare a delle modalità che facciano sì che lo studente abbia la resa migliore possibile per quello che è quindi le misure sono previste all'interno di un quadro normativo specifico che poi dopo accennerò queste all'interno di questo quadro vengono poi selezionate in base alla diagnosi e alla storia della persona singola e poi vengono condivise con i docenti condivisa con il docente vuol dire che il docente prende atto della misura ma nello stesso tempo aiuta me che sono clinico e non ho invece l'esperienza della conoscenza didattica sulla materia nel dire che cosa per esempio potrebbe ulteriormente essere utile ci sono delle situazioni in cui gli studenti scelgono determinati tipi di misure tra quelli di cui insomma hanno diritto ma nonostante questo non superano l'esame può succedere quindi anche lì l'intervento poi del docente che porta la parte più di competenza su la materia ci permette di capire che cosa non ha funzionato e magari di scegliere un'altra misura che invece prima non avevamo considerato se posso integrare dal punto di vista proprio organizzativo e gestionale poi dell'Ateneo credo che questa forse può diventare una possibile buona prassi che potremmo attuare e cioè a mio avviso il centro linguistico di fatto è previsto addirittura dal regolamento didattico dell'Ateneo questa è la struttura che alla quale i dipartimenti delegano la formazione linguistica e l'accertamento la verifica del profitto credo però che sia fondamentale c'è un forte coordinamento fra centro linguistico delegato per le lingue presente nel comitato didattico del centro linguistico e delegato per la DSA di dipartimento perché è giustissimo quello che dice per cui il docente viene informato su quali sono poi qual è il quadro clinico ma poi voglio dire la certa quindi la misura compensativa o ancora più dispensativa credo dipenda poi molto dall'ambito dalla disciplina e quindi ci deve essere anche un forte coordinamento che oggi ancora forse non abbiamo raggiunto però credo su questo Paolo stiamo lavorando stiamo cercando di avere comunque una persona del centro linguistico di Ateneo all'interno del nostro del nostro comitato adesso sapete che i direttori sono stati sono cambiati per cui aspettiamo le nuove o la conferma dei vecchi dei vecchi delegati per cui a breve faremo questa questa riunione e lì sarà interessante appunto mettere scrivere delle linee guida delle buone pratiche per in qualche modo organizzare questi aspetti che ripeto i numeri di SA sono comunque in aumento avete visto e continueranno ad aumentare probabilmente scusa dico questo perché ricordando quando diceva la professione sa venuti nel corso dell'esposizione ma sono cose che sappiamo il centro linguistico passa come l'orco cattivo perché io sono uno studente e capisco il disagio per cui poi la lingua è una battuta anziché la prova di lingua è provo la lingua e quindi poi questo va a ingrandire una situazione che se riusciamo invece a gestire fino all'inizio riusciamo a incanalare nel giusto alveo che deve avere altrimenti poi si creano anche tensioni studenti che poi non sono l'esame devono perdere una borsa di studio devono pagare le tasse dico una cosa di più che prima non sapevamo che erano dislessici nel momento in cui non passano l'esame di lingua allora vengono da noi dicono sono dislessico vuole la misura e così via per cui comunque credo che il problema della lingua vada veramente gestito con individualità e con studio di caso nel senso che per alcuni pensare che faccio una prova scritta è impossibile e dobbiamo quindi capire che bisogna ridurre molto gli obiettivi e su quegli obiettivi arrivare alla misurazione più alta insomma quindi possiamo anche su quegli obiettivi che noi concordiamo dire ma questo non ha fatto niente non passa però dobbiamo valutare caso per caso secondo me quanto prima lo facciamo meglio è perché oggettivamente per la prova di lingua in alcuni casi se abbiamo stabilito che può fare tutto comunque c'è bisogno di tempi per farlo e non può ridurre l'ultimo esame però purtroppo questo sì sì ma credo che questo vada fatto e chi Antonella in particolare diciamo le persone dello sportello devono fare una grossa sensibilizzazione nel momento uno a fare una valutazione di quelle che possono essere competenze linguistiche due dirgli guarda non hai sconto diverso che da questo quindi comincerò a fare la lingua insomma no sì devono essere i primi studenti a fare questo passo se posso aggiungere rispetto a questa cosa specifica comunque visto che Paolo diceva che stiamo lavorando in effetti nei colloqui che io svolgo dopo il dopo spiegherò bene qual è la prasse che gli studenti seguono però sostanzialmente quando lo studente arriva da me e fa un colloquio dove ripercorre la sua storia il collegamento con il centro linguistico le iniziative formative che ci sono state e i movimenti che ci sono state all'interno da cui poi nasce anche il fatto che nella giornata di domani ci saranno dei workshop specifici sulla lingua e all'interno del mio colloquio io una parte la dedico a fare un'indagine rispetto a quelli che sono gli apprendimenti linguistici livello delle varie lingue con una specie di intervista anche strutturata che è stata concordata con il personale del centro linguistico di Ateneo quindi da questo punto di vista insomma ci stiamo lavorando ok se non ci sono altre domande quindi lascio la parola anzi il microfono tutto ad Antonella la quale ci parlerà dei disturbi specifici dell'apprendimento dal confronto alle buone prassi ecco allora io sono Antonella Mirati sono una psicologa psicoterapeuta collaboro presso il laboratorio della professoressa Venuti e insieme come avete capito ci occupiamo un po' dello sportello di SA quindi del contributo clinico e quindi di quella parte della rete che ci permette di accogliere gli studenti di capire nello specifico quali sono le loro problematiche qual è la loro storia per poi far sì di promuovere un po' il successo formativo all'interno della loro carriera universitaria e il mio intervento magari lo ridimensiono rispetto a quello che avevo pensato perché alcune cose sono già emerse nel dibattito però un po' nel presentarvi quella che è l'attività dello sportello di SA volevo darvi alcuni brevemente alcuni concetti che un po' riflettono la matrice entro la quale noi cerchiamo di collocare il nostro lavoro allora prima si diceva terza edizione della settimana nazionale della dislessia quest'anno il filo conduttore è la sinergia tra collaborazione e l'esaltare quello che è il potenziale delle persone piuttosto che il deficit e questo si colloca bene anche come avete sentito dagli interventi precedenti in quello che è appunto l'obiettivo del nostro lavoro avete visto gli aspetti di collaborazione anche in relazione a quello che prima Paolo diceva sulla rete che è stata costruita in Ateneo per il supporto agli studenti con bisogni educativi speciali cooperare per imparare a valorizzare il potenziale è la linea che un po' ci permette di far sì che non ci sia abbandono del percorso di studi e ci sia una realizzazione un po' di quello che è lo sfondo di inclusività all'interno della nostra comunità accademica allora prima noi abbiamo parlato e la professoressa Venuti ha approfondito l'aspetto dell'evoluzione dei disturbi specifici dell'apprendimento nell'adulto in particolare lei faceva riferimento un po' a quello che è il primo punto quindi come evolvono i processi specifici il funzionamento delle abilità strumentali specifiche nel corso del tempo il mio intervento invece voleva concentrarsi un pochettino su aspetti riguardanti l'evoluzione a distanza nella salute mentale e in quello che riguarda gli aspetti di carriera scolastica e attività lavorativa allora prima abbiamo parlato di neurodiversità abbiamo parlato quindi di quanto le variazioni dello sviluppo celebrale delle sue funzioni devono essere apprezzate così come qualsiasi altra forma di varietà di variabilità individuale questo per noi significa tenere a mente che oltre alla diagnosi specifica dello studente perché nei colloqui si approfondisce la storia di vita e la storia scolastica perché un conto è quello che emerge dalla diagnosi i valori significativi che ottiene a livello di prestazioni di intelligenza nelle abilità specifiche dell'apprendimento un altro conto è quello di capire come studia questo ragazzo qual è il suo metodo nel senso che ci sono tutta una serie di strumenti che possono essere utilizzati che purtroppo i dati che io raccolgo nei colloqui che faccio ogni anno sono un pochino deludenti nel senso che noi investiamo tanto sulla tecnologia sugli strumenti compensativi e invece questi vengono fatti propri all'interno del metodo di studio degli studenti molto poco per cui spesso investiamo sull'acquisto di strumenti che poi non vengono utilizzati perché quello che succede è che comunque non c'è stato nel tempo precedente un'adeguata cultura di formazione del ragazzo possibilità che l'ambiente ha dato di investire su questi tipi di competenze approfondire la storia clinica dello studente a me permette di capire qual è il suo metodo di studio mi permette di capire quali sono qual è lo stile cognitivo di apprendimento preferenziale questa è un'informazione importante perché nel momento in cui poi dobbiamo andare a dare indicazioni specifiche agli insegnanti ai docenti che vanno oltre la formulazione delle misure ok è importante cercare di far capire come quello studente lavora e quali difficoltà nella sua quotidianità di frequenza delle lezioni e di preparazione per gli esami può incontrare un aspetto che prima la professoressa Venuti citava è quello della conoscenza metacognitiva allora vi assicuro che qui io ho scritto che dare è fondamentale dare la possibilità alle persone di avere questo tipo di conoscenza su se stessi questo perché è stato dimostrato come questo tipo di capacità dia migliori esiti a livello prognostico rispetto alla soddisfazione personale rispetto al benessere psicofisico della persona piuttosto che i giudizi ottenuti a livello di prestazioni scolastiche e questo perché allora nei colloqui con i ragazzi io tendenzialmente già dalla mail che mi viene inviata per il primo contatto per l'incontro riesco già un pochettino a capire qual è la capacità metacognitiva della persona come si sente la persona rispetto al suo DSA non perché ho la palla di cristallo ma perché spesso succede che gli studenti che hanno avuto poca capacità di sviluppare questi aspetti metacognitivi si rivolgono anche all'università con una specie di timore revelenziale per cui si vergognano hanno paura dello stigma arrivano a dichiararsi perché si rendono conto che effettivamente hanno magari passato buona parte del primo anno a fare da soli e poi non hanno ottenuto i risultati sperati considerate che un conto è quello che io come studente voglio realizzare nel mio percorso scolastico ci sono poi anche i dati di realtà che sono i crediti per avere la borsa di studio per mantenermi una casa che sono i finanziamenti che per esempio posso ottenere o magari non posso dalla mia famiglia quindi comunque arrivano questi ragazzi a palesarsi al servizio a chiedere e allora le misure compensative gli strumenti sono previsti dalla legge sono previsti in quanto ci si rende conto che questa categoria di studenti ha una modalità diversa di apprendere per i motivi neurobiologici che prima venivano spiegati allora il punto qual è che chi non ha questa competenza metacognitiva sviluppata parla e si riferisce agli strumenti compensativi alle misure dispensative come aiuti e quindi per esempio nella mail scrive buongiorno dottoressa io sono lo studente le scrivo su invio del servizio inclusione perché ho bisogno degli aiuti per il supporto alla carriera chi invece ha lavorato un pochettino di più ed è un pochettino più forte a livello di autostima ti chiede quelle che sono le misure previste dalla legge quindi è un approccio diverso durante il colloquio allora la storia un pochettino trasversale degli studenti che finalmente arrivano all'università è sempre quella di un bagaglio in cui dietro ci si porta l'insuccesso scolastico l'aver sperimentato questa sorta di impotenza presa per cui nonostante l'impegno i giudizi la soddisfazione che io ho il senso di auto-efficacia che io ho rispetto alla mia formazione non sono sufficienti anzi sono fonte più che altro di frustrazione più che di elogio di quello che sono io allora quello che appunto succede in in questi momenti è proprio un palesarsi al servizio venire al servizio un po' con l'idea di dire io ho avuto tutta una serie di difficoltà che ho accumulato nel corso della mia carriera scolastica nonostante questo sono all'università c'è chi è all'università con un senso maggiore di tranquillità perché sta studiando perché ha un obiettivo futuro c'è chi viene e magari ti dice io sono all'università perché voglio dimostrare agli insegnanti degli ordini di scuola precedenti che ce la posso fare e che sono una persona che funziona perché poi l'idea che ci si porta dietro è sempre quella di avere un deficit abbiamo visto che non è così ma un po' è di avere qualcosa che manca che agli occhi degli altri è visibile e sul quale io comunque mi sento sempre in difetto e devo chiedere aiuto devo chiedere supporto allora un altro aspetto secondo me che crea questo tipo di difficoltà a livello emotivo nei ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento è un po' anche dovuto a questa cosa allora noi abbiamo un'identità che è un'identità di tipo biologico che un po' ci distingue come la nostra impronta digitale ok se noi facciamo una risonanza magnetica funzionale il nostro modo la nostra come le nostre aree celebrali funzionano ci contraddistingue e questo nelle ultime ricerche è stato chiamato con questo nome con nettoma o comunque identità cerebrale che mi è più da psicoterapeuta mi è un po' più la parola identità mi è più familiare allora questo che cosa vuol dire allora vuol dire che noi abbiamo una dotazione specifica particolare che è solo nostra ma che comunque muta e si evolve all'interno di esperienze significative con l'ambiente e questo ci dà l'idea dell'importanza di cui prima dicevamo o la professoressa diceva per la prognosi di quanto l'identificazione precoce e di quanto la possibilità che io come persona ho nonostante il mio disturbo di accedere a delle esperienze all'interno di contesti a delle relazioni personali ma anche educative didattiche quanto io ho la possibilità di accedere a queste che solleticano e stimolano le mie capacità metacognitive tanto più la prognosi sarà positiva perché l'obiettivo qual è? L'obiettivo di identificare precocemente questi disturbi di supportare con interventi specifici i ragazzi le famiglie e l'istituzione scolastica è quella un po' di far sì che io non tolgo il disturbo abbiamo visto che non è una malattia che poi io guarisco però intervenendo in questo modo faccio sì che l'impatto del disturbo sulla mia quotidianità scolastica lavorativa e sul mio stato di salute mentale sia minore ok e un po' quello che questi pensieri ci fanno pensare è un po' l'aspetto legato al fatto che ormai non esiste il concetto di norma è un concetto superato nel senso che la normalità è la diversità ok e io qui poi ho un po' riportato questa frase di questa persona che ha un disturbo dello spettro autistico che guarda dall'altra parte i neurotipici e parla di questa sindrome neurotipica che è un po' quella che caratterizza le persone i contesti che fanno diciamo fatica a capire che effettivamente non possiamo essere tutti uguali che non si può ragionare con una logica di uguaglianza che farebbe sì che io a tutti do la stessa identica cosa ma ora si va verso un insieme innumerevole di individualità sul quale io ragiono con un'ottica non di uguaglianza ma di equità dove io cerco di capire a livello di personalizzazione ed è questo anche la matrice nella quale poi si collocano i colloqui che vengono fatti quali sono le strategie quali sono gli obiettivi per quella persona e che cosa noi insieme vogliamo raggiungere ok ecco qui appunto prima la professoressa parlava di quanto c'è questa idea rispetto ai disturbi specifici dell'apprendimento di un coinvolgimento multifattoriale quindi di più aree di circuiti celebrali interconnessi che appunto fa sì che a parità di etichetta diagnostica noi abbiamo innumerevoli singolari questo vuol dire che su 69 studenti attualmente iscritti presso il nostro ateneo certificati che hanno presentato la loro certificazione se io prendo il cluster di studenti che hanno dislessia ok non tutti hanno la stessa storia hanno la stessa etichetta diagnostica ma hanno diverse dotazioni a livello di autostima a livello di senso di efficacia motivazione che li spinge a studiare e hanno anche diversi tipi di prestazioni all'interno delle abilità scolastiche così come hanno un approccio alla carriera universitaria e danno un senso al loro percorso che è molto diverso prima dicevo cosa secondo me fa sì che poi effettivamente si creino tutta una serie di difficoltà a livello emotivo in questi ragazzi che hanno disturbi specifici dell'apprendimento un po' il fatto che si tende a far colludere insieme quella che è l'identità celebrale e quella che è l'identità personale allora l'identità personale è una cosa molto diversa dalla mia dotazione neurobiologica perché è il senso che io come individuo singolo nel tempo in maniera costante univoca do alle mie esperienze le esperienze relazionali costruiscono il nostro cervello a livello biologico perché il nostro cervello si costruisce all'interno di una relazione significativa allora il punto qual è è che spesso si tende a far coincidere questi due tipi di identità per cui magari gli insegnanti rispetto a una classe ti dicono benissimo io ho 23 alunni di cui 15 BES di cui 4 DSA 2 con funzionamento intellettivo limite e altri di varia categoria quindi la tendenza a identificare non più la persona ma il disturbo prima della persona e quello sul quale noi vogliamo lavorare è proprio questo ed è anche il senso del fatto che comunque come università nonostante siamo partiti un pochettino più tardi nell'approcciarci a questo problema perché la legge del 2010 e all'inizio comunque i consigli orientativi dei docenti delle scuole di ordine inferiore all'università spesso comunque alla luce delle difficoltà tendevano a dare un orientamento che privilegiava formazione più di tipo professionale più pratica che non una formazione di livello più alto come può essere quella universitaria allora questo è un aspetto che prima abbiamo già visto nell'intervento della professoressa Venuti una cosa che volevo precisare allora gli studi su gli aspetti psicopatologici a lungo termine di persone che hanno diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento non riconosciuto oppure sul quale non si è effettivamente lavorato abbastanza e fa sì che ci sia una predisposizione un rischio maggiore di sviluppo di sintomatologie o internalizzanti quelle a cui prima la professoressa faceva riferimento quindi ansia depressione somatizzazione attacchi di panico ok oppure si crea una compresenza anche con quadri di tipo esternalizzante che sono quelli appunto relativi al comportamento della persona come il deficit di attenzione per attività ok di cui prima parlavamo e che sussiste proprio per il fatto che i circuiti celebrali coinvolti non sono specie specifici per l'abilità lettura scrittura e calcolo ma sono delle connessioni che vanno a toccare come prima approfondiva la professoressa Venuti le funzioni esecutive ma anche le aree più legate al sistema limbico e alla parte più deputata del nostro cervello all'elaborazione delle informazioni emotive e a livello di conseguenze sulla carriera scolastica e lavorativa allora c'è chi ha parlato di danno motivazionale allora gli studenti arrivano spesso hanno una diagnosi che viene posta comunque diciamo verso la scuola media tendenzialmente ok quindi arrivano ma comunque per la serie di insuccessi che hanno consolidato con un'identità personale che è condizionata dal disturbo è un qualcosa che nel tempo hanno imparato a mettere dentro nella propria identità ma che comunque ti condiziona perché io vivo con la paura di essere visto dagli altri che magari vedono che io ho per esempio il tempo aggiuntivo quindi io magari ho parlato con lo sportello DSA ho chiesto le misure però poi nel momento in cui mi trovo nella pratica nell'aula insieme agli altri io ho il tempo aggiuntivo la mia paura qual è? è quella che qualcuno quando è ora di consegnare e inizia il mio tempo aggiuntivo mi guardi e mi dica hai sentito che ti devi alzare devi consegnare ok questa per esempio può essere una nel nel concreto il fatto che comunque io vivo sempre in questa condizione per cui sono poco intelligente dicevo prima ho qualcosa che mi manca sul quale devo comunque sempre arrancare che è un qualcosa di specifico rispetto alle abilità scolastiche ma che ha anche un contorno rispetto a per esempio le capacità organizzative ok il senso di fiducia che gli altri possono avere di me altra cosa che spesso i ragazzi riportano nel colloquio è quanto sia difficile fare lavori di gruppo e quindi pensare di cercarsi all'interno di questo micro ambiente sociale un posto un ruolo un riconoscimento per le mie capacità e non tanto per le mie difficoltà considerate che essendo un lavoro di gruppo su un esame le mie difficoltà sono messe sotto il riflettore ok e quindi arrivano con queste convinzioni con questo senso di identità che ha un pochettino dei buchi è un pochettino fragile e anche quando la diagnosi arriva perché il disturbo diciamo si scopre in età più tarda più matura un po' l'essere stato diagnosticato dai ragazzi è vissuto in maniera ambivalente cioè sono contento perché c'è qualcuno che mi dice che non sono stupido che alcune cose che io non riesco a fare non dipendono da una mia volontà dal mio impegno ma dipendono da un qualcosa che prescinde da me cioè la mia organizzazione neurobiologica però nel momento in cui io realizzo questo realizzo anche che questa cosa è un qualcosa di normato ok è un qualcosa che è definito e che se io dico che ho un disturbo specifico dell'apprendimento comunque stimolo negli altri nell'ambiente che mi circonda tutta una serie di riflessioni sui quali io poi non ho più il potere di gestire ok e che quindi mi possono mettere in difficoltà alcuni autori stanno parlando appunto di questo danno motivazionale prodotto dall'ambiente sociale in cui i ragazzi con DSA sono inseriti per i quali a parte il loro deficit neurobiologico specifico a questo appunto si aggiunge quello che è il danno di non aver potuto a livello di contesto ambientale qui si intende un contesto ambientale esteso non si intendono solo i genitori la scuola tutte le occasioni educative formative che un ragazzo al quale un ragazzo accede nel corso della sua vita che non sono stati in grado di gestire di supportare efficacemente questo senso comunque di voglia di apprendimento che non è solamente scolastica ci sono tanti studenti che rinunciano ad aspetti di vita extra scolastica per poter riuscire sulla carriera per esempio universitaria tanti studenti sono convinti che se studiano tanto e tutti i giorni avranno una resa migliore il rischio però qui qual è che nel momento in cui io ho investito 100 solo su un esame e poi quell'esame va male io sono il voto che ho ricevuto all'esame quindi la mia identità è quella non è altro e l'altro aspetto è anche il fatto che si possono fare delle scelte orientative che non sono funzionali perché non si tiene conto di quello che effettivamente il potenziale del ragazzo è quindi l'idea nella quale comunque noi ci muoviamo nelle valutazioni nei colloqui che facciamo nel supportare i docenti e chi comunque a noi ci riferisce è portare la voce di quelli che sono gli aspetti psicologici quindi non solo le abilità scolastiche il funzionamento cognitivo della persona ma un senso un po' più generale di quello che è l'identità della persona con l'idea comunque di costruire qualcosa insieme all'interno di una relazione e considerate che comunque tutti noi a prescindere dal fatto che siamo docenti che siamo psicologi che siamo il personale della segreteria ok abbiamo comunque delle interazioni più o meno significative ma che comunque investiamo di credenze di giudizi che noi abbiamo di parole di azioni che comunque in qualche modo quella relazione la connotano in maniera positiva o negativa per l'altro l'altra persona che si mette in relazione con noi allora io qui avevo un pochettino sintetizzato quella che è la storia della nascita dello sportello DSA allora è di rete ed è nato in rete nel senso che agli inizi e qui siamo appunto nel lontano marzo 2011 ci siamo messi diciamo in comunicazione con quello che era il servizio di accoglienza agli studenti disabili e con DSA dell'università di Modena Reggio questo perché loro sono stati diciamo i primi in Italia ad aprire un'offerta agli studenti di questo tipo e quindi volevamo confrontarci con loro per capire come noi potevamo muoverci questa collaborazione ha fatto sì poi che ci fossero tutta una serie di contatti anche rispetto alla partecipazione del personale di Ateneo ai seminari per esempio che si tengono specifici sulle tematiche dei DSA nell'adulto presso l'università di Modena Reggio noi nasciamo in ottobre 2011 ovviamente i numeri allora erano numeri di studenti erano tre quindi lavoravamo diciamo uno proprio in maniera molto più individualizzata insomma di adesso poi questa è un pochino una carrellata di quello che è avvenuto negli anni penso che degni di nota sono appunto le collaborazioni con il centro linguistico di Ateneo le collaborazioni rispetto al progetto di operatività integrata con gli Atenei del Triveneto e un po' quello che riguarda tutto quello che ha portato alla creazione di quella che è la carta dei servizi cui prima si accennava allora quali sono le misure che si possono richiedere all'università nello specifico allora per quanto riguarda le prove di ammissione la misura relativa al tempo e quindi avere il 30% in più rispetto alla durata della prova questa è una cosa che noi come Ateneo solitamente facciamo accanto alla concessione della calcolatrice non scientifica e alla possibilità di svolgere la prova d'esame in un'aula dedicata allora in un'aula dedicata vuol dire che quel giorno ci sono circa 15-20 persone che stanno nell'aula dedicata rispetto a un numero molto superiore degli altri studenti l'aula dedicata serve a far sì che si possa garantire con maggior tranquillità il 30% di tempo in più per gli studenti con DSA il 50% di tempo in più per gli studenti che invece hanno disabilità per quanto riguarda invece gli esami di profitto allora questo è come dicevo il range di misure che la normativa specifica prevede tra le che vengono scelte per lo specifico studente sulla base della diagnosi e sulla base della sua storia clinica vedete che ci sono delle misure che riguardano aspetti più legati al tempo quindi tempo aggiuntivo piuttosto che la possibilità quando il docente già non prevede delle prove intermedie per il suo corso di spezzare la valutazione di un corso intero su più appelli ok questo fa sì che io dico sempre ragazzi aspetto negativo è se tu spezzi la valutazione su due appelli mettiamo uno a gennaio uno a febbraio vuol dire che di positivo hai che hai più tempo per studiare perché porti metà programma per uno metà programma dell'altro di negativo che cosa c'è che è una possibilità sola e non due nel senso che allora poi lì tu devi mostrare la tua preparazione nel senso che poi non è detto che ci sia un altro appello in quella sessione sul quale poi si può recuperare la prestazione e altri tipi di misure riguardano invece la modalità di valutazione e quindi valutare come si diceva prima se è opportuno fare una prova scritta con il tempo aggiuntivo o quando invece è opportuno inserire l'integrazione del colloquio orale piuttosto che cambiare la prova da modalità di valutazione scritta a modalità di valutazione orale prima vi parlavo di aspetti legati al metodo di studio della persona un'altra cosa che è prevista è quella per esempio di evitare gli esami scritti a scelta multipla e quindi di trasformare poi l'esame o in una parte che viene valutata con domande aperte o con un orale allora perché è importante avere delle nozioni in più sulla storia clinica scolastica del ragazzo perché questa cosa per esempio non c'è scritta sulle relazioni ok quindi io cos'è che devo cercare di capire devo cercare di capire se un ragazzo dislessico disortografico disgrafico allora ha beneficio oppure no di una modalità di proposizione della domanda piuttosto che un'altra allora ci sono ragazzi dislessici che per esempio non hanno facilità nel rispondere alle domande a scelta multipla perché hanno una complessità insita a livello di grammatica doppie negazioni conseguenze gli studenti spesso ti dicono si assomigliano tutte e io alla fine perdo tempo a cercare di capire quali sono le minime differenze tra una risposta e l'altra ci sono invece altri tipi di studenti con la stessa etichetta diagnostica per esempio dislessici che ti dicono no anzi io l'orale mi vergogno vado in ansia e non ce la faccio a farlo la risposta aperta per me è peggio perché magari capisco quello che mi chiedono però non prendo proprio il target e quindi scrivo o troppo poco o troppo ma senza centrare quella che è la richiesta della domanda forse è meglio una modalità di questo tipo però vedete su quella che è una possibilità normata perché comunque questo è previsto dalla normativa che vedete nel box violetto si ragiona sempre con lo studente cercando bene di capire che cosa per lui è meglio ecco un'altra cosa che non ho detto allora la normativa specifica prevede l'utilizzo di questi tipi di misure ce ne sono due nello specifico che sono il formulario e l'utilizzo di supporti che possono essere mappe o elenchi puntati di concetti che sono previste per le scuole di ordine inferiore all'università ma non sono specificatamente previste per l'università allora il nostro ateneo insieme appunto agli altri atenei del triveneto e anche in base a quello che poi è stato inserito nelle linee guida della cnud abbiamo deciso di concedere questo tipo di misure se e solo se all'interno della relazione lo specialista che la redatta ha specificato che quello studente ha bisogno di quel tipo specifico di supporto oppure lo studente per esempio l'ha utilizzato lo specialista non l'ha certificato però a livello clinico da tutta una serie di dati relativi in particolare alla memoria di lavoro che prima veniva citata riusciamo a capire che effettivamente quella persona ha difficoltà nel recupero dei concetti e quindi gli serve un qualcosa che è un supporto che non è che io sto copiando mi facilita io vedo quella parola vedo quell'immagine mi dovrebbe facilitare siccome ho fatto un lavoro di studio per costruire quello strumento il recupero di quello che è poi il discorso che sta dietro e quello che che devo dire ovviamente questo tipo di strumento prima viene visionato al docente quindi non è un qualcosa che poi lo studente si porta all'esame seppure lo studente il docente l'abbia autorizzato nel colloquio senza che prima possa essere visionato ecco poi qui facevo un attimino riferimento alla possibilità che in realtà poi c'è per tutti di utilizzare il registratore digitale di prendere appunti con il computer di poter avere il materiale relativo alle lezioni quindi per esempio le slide prima possibilmente prima della lezione ok ci sono alcuni docenti che non le concedono ancora ci sono alcuni che le ecco le cambiano fino all'ultimo ci sono alcuni che le concedono nel immediato insomma diciamo il giorno prima considerate che per alcuni di questi studenti sono fondamentali perché per esempio il problema di sovraccarico della memoria di lavoro fa sì che facciano difficoltà nella pratica a sentire quella che è la lezione e nello stesso tempo scrivere quindi ci sono studenti che registrano però la registrazione non efficace cioè accendo il registratore lo spengo alla fine della lezione fa sì che io poi mi devo sbobinare un'ora e mezza due ore di lezione e quindi a casa comunque mi sovraccarica quando non c'è questo utilizzo efficace del registratore allora o ascoltano e basta e quindi poi si cercano un supporto che sia la slide che sia il video della lezione che sia gli appunti del compagno ok che sopperisce oppure scrivono e ascoltano insieme facendo poi dei gravi danni nel senso che poi magari gli appunti sono pieni di buchi devono andare a capire cos'era il concetto allora lì l'utilizzo efficace della registrazione potrebbe essere tu registri tutto provi a prendere appunti quando ti rendi conto che effettivamente sei stanco non stai più seguendo ti fai un segno guardi che ore sono e poi nella traccia vai a recuperare quello che si stava dicendo in quel momento questa per esempio potrebbe essere una strategia oppure si riflette sul metodo con gli studenti durante l'incontro quando si dice per esempio e questo è un aspetto metacognitivo allora tu sei di quelli che ti alzi presto la mattina vai a lezione alle 9 sei sveglio pimpante e alle 11 è il calo dell'attenzione oppure sei quello che va col cuscino attaccato alla guancia per cui alle 11 ti sale l'attenzione attenzione che questa cosa è fondamentale perché se io devo decidere per esempio quando registrare cercherò e così come anche quando studiare quando ripetere quando risistemare gli appunti della lezione quando è che cercherò di farlo? quando io mi rendo conto che ho un picco di attenzione non quando mi rendo conto che invece sono stanco e faccio difficoltà considerate che le conseguenze della non automatizzazione sono proprio il fatto che oltre all'estensione dei tempi per svolgere determinate attività e quindi tempi che si dilatano c'è anche questo aspetto di soglia di sovraccarico che è più bassa per cui io mi stanco prima e questo stancarsi prima fa sì che io per esempio abbia bisogno chi di muoversi chi di distrarsi chi di fare altro ok? molto più facilmente e questo comunque come circolo vizioso va a incrementare tempi che già sono incrementati da una prestazione non automatizzata su quelle che sono considerate comunque abilità di base perché quando io arrivo a studiare quelle sono proprio competenze minime che vengono date per scontato ecco cosa viene fatto oltre il supporto alla carriera allora all'interno della nostra università abbiamo la possibilità di fare le valutazioni diagnostiche che poi vengono vidimate dall'azienda sanitaria perché comunque la legge prevede che l'università accetti relazioni cliniche non più vecchie di tre anni se fatte da minorenni ma che comunque siano fatte da il sistema sanitario nazionale nella nostra regione l'azienda sanitaria pubblica ha delegato la possibilità ai centri privati come il nostro così noi siamo un centro ma anche al singolo privato di fare valutazioni in questo ambito previo il fatto che comunque il privato si impegni a redigere una relazione diagnostica secondo un modulo che l'azienda sanitaria predispone e sul quale poi basa la sua vidimazione su richiesta abbiamo la possibilità anche di attivare degli incontri di supporto psicologico mettiamo che all'interno comunque di quello che è la carriera che è lunga ci possono essere dei momenti dove tu fai degli investimenti sbagliati ok è proprio recente la situazione di questo studente che mi dice io sono a rischio di ritiro di abbandono insomma del mio percorso universitario perché perché lui ha investito tutti i suoi sforzi su una serie di esami che erano a sbarramento quindi del primo anno che fungevano da sbarramento per quelli del secondo tre li aveva superati uno no e quindi in realtà ha perso un anno senza mai frequentare le lezioni degli altri corsi perlomeno ma continuando a studiare a prendere ripetizioni sempre di quella materia e poi comunque l'esame l'esame non l'ha superato e quindi è entrato in crisi ci sono situazioni in cui per esempio io mi rendo non presento la mia diagnosi e poi ti chiedo magari un colloquio di supporto perché volevo capire che cosa questo implica ok oppure perché alcuni sono pochi ma arrivano arrivano con il dubbio di avere un disturbo di apprendimento che hanno nutrito nel tempo ma che per tutta una serie di motivi non hanno approfondito e ora che sono diciamo un po' più lontani dalla famiglia e un po' più autonomi hanno il desiderio di approfondire c'è chi sbaglia dipartimento chi sbaglia corso di laurea ok quindi per tutta questa serie di motivi di cui il disturbo specifico di apprendimento è una componente ma non quella che poi magari anche in maniera diretta genera il problema comunque l'università prevede questi incontri di consulenza così come c'è la possibilità di fare una consulenza sugli strumenti specifici compensativi di cui l'università è dotata e di cui prima abbiamo un po' visto ok e di cui sono attrezzate insomma alcuni ambienti della nostra università allora un passaggio di cui prima Paolo Macchi faceva vedere la schermata e che io invece ho dato un pochettino per scontato è su questo ci ritorno dopo allora quali sono i passaggi per l'accoglienza dello studente allora lo studente solitamente arriva e fa una richiesta al servizio inclusione dicendo ho una diagnosi ok cosa devo fare per avere le misure piuttosto che e possono essere studenti matriccole ok piuttosto che studenti iscritti ad anni successivi che prima non hanno ritenuto opportuno presentare la documentazione e il servizio inclusione fa la prima accoglienza quindi dà tutta una serie di spiegazioni rispetto a quella che poi sarà nel concreto la prassi che viene attivata che lo studente deve seguire e poi invia gli studenti al colloquio con me durante il colloquio quello che io faccio è verificare prima di tutto la validità della documentazione diagnostica che loro portano poi altra cosa è cercare di arricchirla quindi io da clinico colgo una serie di dati di cui comprendo il significato ma mi serve avere la persona lì con me che mi dà dati un pochettino più a tutto tondo e che completano quel tipo di informazione numerica che io poi mi trovo nella relazione quello che poi viene fatto è in base al profilo specifico andare a individuare quelle che sono tra il range di misure che abbiamo visto le misure adatte per quello studente viene compilato nel corso del colloquio un modulo che è condiviso con lo studente stesso e che poi funge da promemoria per ricordarsi quali sono le misure che lui può richiedere e che per noi diciamo permette di fare la comunicazione con l'ufficio inclusione che poi nello specifico si occupa di caricare le misure sul sistema S3 cosa succede nel momento in cui sono caricate le misure si chiede allo studente di iscriversi all'appello d'esame perché solo iscrivendosi all'appello d'esame il docente nella sua pagina di S3 di docente ha la possibilità di visualizzare oltre al nome e cognome la matricola anche l'etichetta come vedevamo prima BES bisogno educativo speciale e andando a cliccare su quella finestrella può vedere l'elenco di tutte le misure a cui quel ragazzo potenzialmente ha diritto poi per lasciare l'autonomia allo studente perché comunque considerate che sono persone in crescita noi non possiamo accompagnarli come mamme ok in un percorso che comunque dovrebbe essere quello che gli consente di lavorare poi su se stessi in maniera autonoma quindi l'idea è tu in autonomia e con responsabilità sulla base di quello che è il percorso che abbiamo fatto qualora tu ravvisassi per quello specifico esame per come sono fatte le richieste per com'è la modalità di valutazione la necessità di utilizzare delle misure sai quali sono quelle a cui tu hai diritto e quindi contatti con tempo debito che solitamente sono almeno 15 giorni il docente interessato chiedendo le misure di cui tu hai bisogno il docente come fa a verificare che quello studente ne ha effettivamente bisogno essendoci già iscritto dalla sua pagina personale verifica se effettivamente c'ha l'etichetta best se le misure che lo studente ha inserito nella mail sono all'interno dell'elenco ovvio poi dopo c'è una fase in cui di dialogo tra lo studente e il docente nel senso che se io chiedo il tempo aggiuntivo questo è nella maggior parte delle condizioni facilmente applicabile da un docente se io invece però chiedo l'esame orale oppure chiedo l'utilizzo dei supporti per la memoria questo implica il fatto che il docente per esempio deve visionare le cose quindi c'è bisogno di più tempo affinché a quello studente venga garantita la possibilità di essere valutato in maniera equa e come dicevo l'aspetto legato alla rete fa sì che questo tipo di modalità sia prevista per tutti gli esami della carriera e anche per gli esami di lingua la circolarità fa sì che allora tendenzialmente allo studente quando arriva io presento sempre quali sono le figure di riferimento nei vari ambienti per cui dico l'ufficio inclusione ti può essere utile per tutta una serie di informazioni io dal punto di vista clinico mi occupo di un'altra serie di cose ok io non ti so rispondere per esempio su l'estensione dei crediti per la borsa di studio per mantenerla ok c'è qualcun altro che è deputato a farlo ok io ti posso rispondere per tutta una serie di esigenze più di tipo psicologico oppure per dire guarda se tu sei andato a parlare con il docente il docente non ha capito che cosa intendevi perché tu utilizzi quella misura se c'è bisogno io sono disponibile la circolarità fa sì che all'interno del dipartimento ci sia comunque la figura del delegato che è un docente che è una sorta di interfaccia tra studente e colleghi docenti al quale comunque lo studente io spesso invito a rivolgersi anche se poi la richiesta effettiva delle misure la fa con una modalità completamente diversa però è importante favorire questa questa circolarità delle informazioni fermo restando che poi il docente specifico se ha dei dubbi si riferisce al delegato solitamente in primis a me oppure allo staff del servizio inclusione ecco l'ultima cosa e concludo ho avuto il benefit del del tempo risparmiato dagli altri interventi allora riguarda le prospettive future allora prima facevo un ragionamento su quanto poco gli studenti utilizzano gli strumenti compensativi e quanto invece è la nostra spinta verso questo e quindi un po' l'idea di fare delle azioni che in concreto vadino a contrastare questo l'altra idea era un po' quella di promuovere una formazione sul metodo di studio per gli studenti che sono al primo anno quindi in generale poi specifico per gli studenti con disturbo di apprendimento oppure quella che già invece abbiamo attuato di farli supportare da alcuni tutor specializzati su richiesta abbiamo la parte di collaborazione con il centro linguistico di Ateneo da cui poi nasce anche la necessità di fare tutta una serie di interventi con altre figure specifiche che realizzeremo appunto con il workshop della professoressa Cardinaletti che domani ospitiamo e un po' anche questo si sta lavorando per incrementare la connessione col servizio di psicologia dell'azienda sanitaria che è quello che poi vidima le nostre relazioni altro aspetto che domani accoglieremo un po' quello di capire dopo l'università cosa si fa cosa fanno questi studenti dopo allora domani nello specifico su questo tema interverrà la dottoressa Bocchicchio che parlerà dei DSA e del mondo del lavoro altro aspetto un po' quello appunto di mettersi in rete di continuare a lavorare in rete con gli altri Atenei e di favorire appunto questi processi maggiormente inclusivi all'interno della nostra comunità accademica in relazione sempre a quella matrice di cui parlavo prima di equità che si costruisce con la relazione e col confronto grazie grazie Antonella anche per aver dato un'introduzione di quello che ci sarà domani domande? sì grazie non voglio diciamo anticipazioni sulla parte della dottoressa Bocchicchio mi pare di domani però ecco giusto per capire un po' in base alla vostra esperienza se ci sono ragazzi con appunto disturbi specifici dell'apprendimento nella fase finale del percorso accademico quindi immagino che la predominanza sia nella parte iniziale o comunque quando avvengono le prime difficoltà però sapere se attualmente gestite persone che sono invece in fase conclusiva e quindi magari vi portano anche dal punto di vista emotivo relazionale non solo tecnico legate al disturbo difficoltà di accesso poi al dopo che cosa verrà dopo grazie sì allora non ho magari precisato bene il numero prima che io ho citato di 69 studenti sono 69 studenti in corso quindi che sono iscritti ad anni successivi al primo quest'anno abbiamo avuto un ingresso di mi sembra 15 comunque un po' meno di 20 di nuovi studenti quindi matricole che si vanno ad aggiungere ai 69 che invece è il numero degli studenti in corso ai diversi anni poi dei corsi di laurea allora il il senso quest'anno di aprire anche noi a formarci su quello che è l'aspetto del collegamento con il mondo del lavoro nasce un po' dalle riflessioni che abbiamo fatto gli anni scorsi anche con alcuni delegati docenti delegati di dipartimento i quali sollevavano che per esempio uno studente spesso è tutelato fino alla seduta di laurea quindi mentre scrive la tesi quando si laurea però poi nel momento in cui per esempio fa l'esame di abilitazione alla professione questa tutela non c'è più e quindi c'è un buco nella normativa che diciamo dà la possibilità un po' di autogestirsi da questo punto di vista non sapendo se si sta facendo correttamente oppure no allora è capitato gli anni scorsi il caso di un delegato di dipartimento che aveva posto alla nostra attenzione il problema di questo studente ingegnere che doveva fare appunto l'esame di abilitazione alla professione che aveva avuto da sempre la possibilità di avere il tempo aggiuntivo per tutta la sua carriera e quindi mi diceva guarda lui è certificato l'abbiamo sempre concesso non vedo perché in questa situazione qua che comunque è un completamento della sua formazione noi non lo dobbiamo concedere il problema però è stato che nessuno dicesse che potevamo farlo e quindi abbiamo dovuto chiedere ad altri atenei qual era la prassi che cosa loro facevano e anche loro in realtà si stavano un po' scontrando con questo problema e c'è da dire che ci sono alcune regioni in Italia come per esempio la regione Piemonte che da questo punto di vista sta affrontando questa prospettiva che è del tutto nuova perché considerate che in altri sistemi legislativi come per esempio quello anglosassone sono molto avanti da questo punto di vista ma perché? perché da sempre hanno inserito tutta quella che è la tematica dei disturbi specifici di apprendimento sotto il cappello della disabilità cosa che invece nel sistema normativo italiano è stata la prima differenziazione perché anche nell'università di Modena Reggio c'erano due servizi separati ok? non è mai stato messo sotto a livello normativo a livello anche di agevolazioni economiche sotto il cappello della disabilità quindi ci sono alcune regioni che adesso stanno facendo ricerca e stanno lavorando per creare queste connessioni tra università e il mondo del lavoro insieme alle agenzie all'agenzia del lavoro e quindi si cerca un po' di intervenire creando un pochettino poi è stata fatta l'anno scorso una proposta di legge per far sì che sugli studenti di SA adulti all'interno delle agenzie del lavoro venga creata una figura specifica che si occupi della mediazione tra quelle che sono le caratteristiche della persona che cerca lavoro e quelle che sono le opportunità offerte dai datori di lavoro che possa fare mediazione anche nelle situazioni in cui per esempio si crea conflitto perché qualcosa che è dovuto al tuo disturbo di apprendimento va un pochettino a cozzare con quelle che sono le richieste le aspettative del datore di lavoro che ti offre il posto e la regione Piemonte nello specifico ha anche fatto sì che ci fosse la possibilità per i lavoratori disoccupati di SA di accedere a una sorta di buoni di servizio per la formazione una sorta di riconoscimento economico non è ancora però una prassi che c'è in tutta Italia ed è un qualcosa su cui veramente si sta lavorando perché considerate che il progetto di intervento per esempio nel parternariato con le agenzie del lavoro è stato presentato due anni fa al congresso nazionale dell'associazione AID quindi è una cosa molto recente e quindi accogliamo con piacere la dottoressa Bocchicchio perché ci illumini insomma su questo grazie aggiungo una cosa su questa divisione tra disabilità e DSA a partire da quest'anno il ministero i fondi che dava per disabilità e DSA adesso sono separati quindi l'80% va alla disabilità e il 20% va alla DSA e questo è anche un po' figlia della legge del 2010 quindi questa distinzione tra il cappello e la disabilità su cui cadono tante tematiche tante problematiche e DSA due domande la prima noi abbiamo scoperto al CLAA al momento dell'esame di lingua che lo studente aveva dei problemi di disabilità ma che non erano dichiarati questi problemi quindi la mia domanda è cosa dobbiamo fare in questo caso se dobbiamo assumersi di segnalare la persona o di consigliare allo studente di dicarsi eccetera questa è la prima domanda seconda domanda ma non è una domanda trappola la diagnosi è sempre certa nel senso non ci sono studenti che non avrebbero totalmente il tipo di disabilità ma un po' o relativamente e che questi studenti sarebbero passati inosservati in questo caso anche cosa dobbiamo fare la domanda mi è venuta a causa della relazione della professoressa Venuti che ha specificato che la difficoltà si manifesta diversamente a secondo delle discipline e quindi può darsi che si possa rivelare o parzialmente o in modo relativo nel momento dell'esame di lingua mentre non era visibile negli altri esami delle altre discipline Allora rispetto alla prima domanda che lei faceva e alla conclusione che ha fatto quello che succede cos'è è che negli studenti che non si palesano fin da subito al servizio e quindi che hanno una diagnosi di cui però noi non sappiamo niente può capitare che sono studenti che molto spesso hanno avuto una diagnosi tardiva e hanno avuto una diagnosi tardiva perché tutta una serie di fattori quindi quanti DSA tu hai associati il profilo cognitivo l'impegno il fatto che tu rinunci ad altre cose per lo studio fa sì che tu fai dei sacrifici però vai avanti nella tua formazione gestendo e attutendo un pochettino i colpi che ti vengono da quello che è il mismatch tra le richieste ambientali che diventano sempre più elevate e quello che tu invece riesci a rendere in maniera senza sacrificare troppo ok a volte succede che è proprio l'esame di lingua che fa sì che gli studenti si palesino a servizio cioè che ci sia o molto spesso è lo studente che è andato al centro linguistico e si rende conto che effettivamente non ce la fa a sostenere la prova ma spesso l'ha già sostenuta almeno una volta allora viene e dice voglio le misure perché effettivamente io non ce la faccio questo perché perché molto probabilmente su altre discipline un metodo di studio tutta una serie di strumenti la voglia che tu hai il tempo che ci dedichi l'aiuto dei pari possono magari anche le misure no? fare un esame orale piuttosto che scritto ti aiutano ad avere una prestazione abbastanza adeguata per superare gli esami della tua carriera quello che succede è che la prova di lingua invece noi abbiamo queste quattro competenze che lei prima citava non possiamo toglierle non possiamo farne tre o farne due ok? quindi dobbiamo rispettare questo tipo di valutazione e metterci davanti un po' le difficoltà insite in quell'esame che a mio parere fanno sì che un disturbo che non è che non c'era c'è ma che bene o male il ragazzo con tutte le sue risorse gestisce poi si palesi con l'esame di lingua e non è che io ho un disturbo dell'apprendimento nel senso prima lei diceva può essere che la diagnosi è certa cioè com'è che la diagnosi è certa o no? allora la diagnosi è certa nel momento in cui tutta comunque la valutazione testistica che viene proposta ha un riferimento che è una taratura normativa di un campione di popolazione estesa che ha fatto sì che si creasse una norma e quella che viene definita la deviazione standard cioè la distanza dalla norma e sulla base di questi due valori si confronta la prestazione che il ragazzo ha ottenuto quindi la diagnosi se c'è è una diagnosi certa quello che le ripeto può succedere è che ci sono delle situazioni ambientali tra cui l'esame di lingua che la palesano faccio un esempio diverso dalla lingua straniera uno studente con dislessia discalculia mi sceglie il corso di laurea di lettere ok corso di laurea di lettere e quindi lui sul problema allora dislessia era un disturbo lieve che poi lui ha compensato permanente invece di discalculia quindi disturbo specifico del calcolo e mi dice guarda io ho scelto lettere proprio perché non c'era matematica quindi ho fatto una scelta che mi permetteva di minimizzare l'impatto del mio disturbo che cosa è successo? è successo che comunque nel suo corso di laurea c'era un esame di latino l'esame di latino prevedeva una parte in cui la docente chiedeva di leggere e tradurre un testo in lingua poi c'era tutta un'altra parte di competenze che venivano valutate questo ragazzo allora con la discalculia spesso associato un forte deficit nella memoria di lavoro leggere e tradurre fare due cose insieme accedere alla traduzione quindi a più tipi di significati legati alla parola analizzare lo stimolo è un qualcosa che si fa tutto insieme e quindi questo ragazzo nonostante quello non fosse un esame di matematica comunque non riusciva a passarlo e per quello si è palesato a servizio cosa che invece lui mi dice se io non avessi avuto questo problema non avrei mai fatto perché ero pienamente convinto che il mio problema di discalculia non sarebbe mai emerso per il corso di laurea che ho scelto e anzi si sentiva anche molto rammaricato perché mi diceva guarda questo è l'ultimo esame io mi devo laureare l'ultimo esame prima della laurea avessi scelto matematica fisica capirei perché mi trovo qua che ho fatto un errore e dice mi dispiace e questo era uno di quelli di cui parlavo prima che percepiva le misure come un aiuto quindi mi dispiace essere qua per l'ultimo esame per un esame che comunque non centra non sembra particolarmente attiliente al mio disturbo ma che comunque mi blocca è lì volevo chiedere una cosa riguardante i numeri che sono stati proposti nelle varie presentazioni abbiamo visto che nel primo intervento si parlava di qualche per cento di quota della popolazione che può essere interessata a questo problema in realtà stare ai numeri che vediamo nella nostra università per cento vale sembra più piccola ma in crescita allora mi chiedevo è ragionevole sulla base dell'esperienza di altre università o di altri paesi che questi numeri raggiungano effettivamente quel 3-5% che stiamo parlando a quel punto di centinaia di studenti diventerebbero addirittura più degli studenti con disabilità centinaia di studenti di DSA è ragionevole aspettarsi questa situazione oppure no ci sono paesi in cui si è arrivati a questa situazione o no grazie rispondo io allora la prima percentuale che era presentata nella presentazione della professoressa Venuti era un'incidenza dal 3 al 5% sulla popolazione scolastica allora considerate che ad oggi quindi a 8 anni di uscita dalla legge non abbiamo ancora un'indagine epidemiologica accurata perché comunque quel 3-5 comunque sono due cose diverse e sono stati calcolati sulla popolazione scolastica escludendo la popolazione universitaria quindi si è calcolato l'incidenza del disturbo sulla popolazione scolastica senza considerare i numeri dell'università a livello la ricerca del census ha messo in evidenza alcuni picchi alcuni università hanno il 2% di studenti con DSA in molte università questo è un dato che è sottostimato soprattutto in un'università del sud per ragioni culturali per cui molti studenti non dicono di avere questo tipo di problematica mi pone il problema perché noi abbiamo in questo momento meno di un'ottantina di studenti in tutto ma se quelle percentuali fossero vere potremmo arrivare ad avere anche 200 studenti 300 studenti con questo problema allora probabilmente la questione diventerebbe un po' più impegnativa anche dal punto di vista pratico immagino certo è comunque l'onda che sta arrivando perché a tutt'oggi questi numeri sono in aumento con università più in aumento di altre adesso noi siamo 0-1% della popolazione un po' di meno sì un po' di meno cioè non siamo ancora in regime stiamo andando verso chiedevo solo ha citato l'aiuto tra pari intendeva tra pari come status di studenti o tra pari come studenti con condizioni di DSA perché penso che in tutte le situazioni di difficoltà che sia disabilità che sia DSA che sia anche solo difficoltà di studio sia molto importante una rete di aiuto tra pari perché è vero che il professionista può dare un consiglio competente però è anche vero che si ascolta più facilmente si può spendere meglio un consiglio dato a una persona che vive le tue stesse difficoltà quindi chiedevo se c'è una rete di supporto tra studenti con DSA allora quando io ho fatto la presentazione mi riferivo a tutor cioè compagni di corso ok e questo perché è vero che tutta la modalità che noi abbiamo modificato di approccio supporto la carriera inserendo le modifiche in S3 è nata come Paolo diceva dalla sollecitazione di un gruppo di studenti però è anche vero che questo gruppo di studenti non è riuscito a avere un seguito nel senso che tutti gli studenti che facevano parte di quel gruppo si sono laureati sono iscritti ad altri corsi di laurea anche in altre università quindi quel gruppo lì non ha avuto tanta continuità perché perché comunque nonostante i ragazzi si rivolgano al servizio è sempre comunque in allerta un po' l'idea dello stigma quindi c'è ci sono tanti ragazzi che al servizio si rivolgono ma che poi ai compagni di corso non dicono e quindi l'occasione del lavoro di gruppo permette di dire quindi per ora io mi riferivo ai compagni di classe ai compagni scusate di corso e quello che poi noi nelle formazioni cerchiamo di fare cerchiamo di farlo per i docenti per cui quando parlavo di formare tutto specializzati lo faremo anche lì è quello sempre di coinvolgere ragazzi che se la sentono di parlare ok se la sentono di palesarsi con questa loro identità di studente con disturbo specifico di apprendimento e se la sentono anche di avere un ruolo per consigliare supportare altri studenti che hanno le stesse caratteristiche io pensavo che ci sono anche metodi meno diciamo con meno necessità di mettersi di palesarsi appunto ad esempio sto pensando a un forum con anonimato dove ci sia un moderatore che può essere qualcuno nello sportello lo dico per esperienza personale una persona con una difficoltà può aiutare molto una persona con la stessa difficoltà pur con le differenze di cui ha parlato quindi ad esempio un forum dove uno possa dire qualcuno mi sa consigliare un software che risponda una persona che l'ha provato è molto diverso che venga consigliato infatti quello che le volevo dire è che il gruppo di cui parlavo che poi è andato un po' scemando è partito proprio da un blog che era stato creato dove c'era anche la possibilità di mantenere l'anonimato dove avevano chiesto poi al nostro servizio che poi lì ci scontriamo sempre con la privacy quindi avevamo dovuto trovare un modo per avvisare i nostri utenti nel dire guarda che c'è questo blog se vuoi ti do il contatto e quindi tu poi puoi iscriverti però è stata una bellissima iniziativa che non si è riusciti insomma a portare avanti forse magari anche per errore nostro nel senso che come servizio avevamo lasciato che fosse una cosa autogestita non c'era nessuno di noi che interveniva moderava quindi all'interno del loro gruppo c'era qualcuno che aveva ruolo di moderatore ma non eravamo intervenuti noi perché pensavamo che fosse qualcosa insomma che potesse vestirsi ecco le iniziative bottom up sono quelle poi che si mantengono insomma in questo caso c'era un gruppo molto attivo e purtroppo non ha avuto seguito non riesco a togliere una leggera contraddizione che mi sembra alleggiare nelle cose che ho sentito diciamo in modo più preciso la legge dice fondamentalmente che agli studenti di questo tipo al momento dell'accertamento delle competenze non si fanno sconti devono superare gli stessi livelli di conoscenze e competenze degli altri mentre il collega del CLA parlava da competente della sua materia cioè quello titolato a dire come devo accertare la competenza di uno studente in lingue diceva che chiedono uno scritto un orale la comprensione e tutto il resto la professoressa Venuti in quel momento è intervenuta e ha detto beh in questo caso c'è la possibilità che uno studente di questo genere non sia assolutamente in grado di fare uno scritto quindi bisogna diminuire le richieste potete sentire probabilmente l'audio registrato più o meno ha detto questa frase allora io qui per esempio lo studente che si deve laureare in lettere e ancora non ha fatto allora non aveva ancora fatto l'esame di latino oggi non so se l'ha fatto o meno ma com'è andata la storia cioè hanno abbassato le richieste oppure lui ha imparato il latino oppure è ancora lì che aspetta di fare il latino questo fatto è quello che come docenti un po' ci troviamo in certi momenti a dover toccare con mano fino in fondo cioè cosa devo fare quando vedo delle palesi difficoltà anche con le misure compensative anche avendo dato più tempo anche avendo dato un orale invece che uno scritto o qualunque altra cosa devo ho visto personalmente situazioni in cui palesemente abbiamo abbassato le richieste abbiamo abbassato le richieste e gli studenti sono andati avanti abbassando le richieste questo non è quello che la legge ci dice di fare però dopo un po' uno non sa bene neanche se sta interpretando fino in fondo se è particolarmente testardo e insistente nel richiedere ciò che chiede agli altri mi è piaciuto anche l'ultimo passaggio sul fatto di come si stabilisce se uno studente è dislessico o meno si fa un confronto con una statistica con una come quanto si discosta dalla norma quando nelle slide ho visto più volte che la normalità è la differenziazione e la diversità quindi anche questo è un altro aspetto che un pochino mi spiazza allora perché dove sta diciamo il nostro compito fino in fondo in questo da docenti quando abbiamo a che fare con una situazione di questo tipo allora il fatto che ci siano dei test che abbiano una taratura numerica questo noi non lo possiamo prescindere nel senso che io solo da un colloquio o da qualcosa qualitativo ok senza un confronto normativo specifico io non posso dire tu sei dislessico non lo sei quindi esistono tutta una serie di prove che noi come clinici sottoponiamo ai ragazzi con un giudizio clinico che è un pochettino più complesso di quello che io prima cercavo di spiegare ma che forse non è neanche un pochettino la sede per discuterlo ma dove io per accertare che quella prestazione è deficitaria devo avere un termine di confronto ok che è stabilito da un campione normativo e questo è un conto l'intervento in cui parlavo del fatto che la norma è la diversità deriva dal fatto che il concetto di norma storicamente è nato ok quindi l'idea di parlare di una norma è nata a livello più di ricerca scientifica in relazione allo studio dell'astronomia ok che poi ha un concetto che è stato trasmutato anche nel per quanto riguarda il fatto che le persone abbiano la possibilità di collocarsi all'interno di una curva gaussiana che è definita in parte anche da una fascia che rientra nella norma quello che è definita stavo dicendo non tutta la persona è definita da quello le capacità scolastiche il quoziente intellettivo possiamo misurarli così ma non la persona nella totalità quindi questa è la specifica il ragazzo studente ex immatricolato al corso di laurea di lettere si è laureato e si è laureato perché in quel caso abbiamo parlato con la docente per cui lui l'esame non l'aveva superato è venuto a chiedere le misure e quindi l'idea è stata un po' quella di dire ok ma aspetta cerchiamo di capire perché la professoressa struttura l'esame in questo modo e se effettivamente è chiaro che perché ovviamente la professoressa leggeva dislessia compensata e compensata non vuol dire che non c'è vuol dire che nelle situazioni di alto carico cognitivo le caratteristiche tipiche di un dislessico emergono però compensata uno può anche pensare che non c'è e leggeva discalculia un minimo di informazione discalculia un problema di calcolo quindi dice beh col mio esame che c'entra assolutamente niente e quindi poi lì la mediazione e il dialogo con la docente è stato quello uno di spiegare che non era propriamente la discalculia che interveniva quanto la difficoltà di memoria di lavoro associata che creava un problema con lo studente nella richiesta di gestire un doppio compito dato da lettura e traduzione quindi la docente lui l'esame l'ha superato la docente che cosa ha fatto ha previsto un colloquio orale oltre aggiuntivo a quello che era l'esame quindi ha valutato lo studente su altri tipi di competenze che erano la seconda parte dell'esame lì il problema si era creato che leggi e traduci era un qualcosa di sbarramento per accedere al resto quindi un ragazzo che ha questo tipo di difficoltà mai avrebbe avuto la possibilità per esempio di parlare di alcuni aspetti di letteratura a lui noti che lui conosceva molto bene che anche quelli contribuivano a generare il voto quindi quello che è successo è stato che la professoressa l'ha valutato sulle altri tipi di competenze e poi ha voluto dare un compito di traduzione per il quale aveva dato allo studente un testo lo studente si era tradotto a casa il testo quindi la docente aveva valutato la traduzione ma aveva poi lavorato con lui sul senso adesso io non sono competente per cui perdonatemi sul sul senso di conoscenza lessicale e quindi di quanto quella traduzione che lui aveva fatto era aderente a quello che poi l'autore invece in lingua classica aveva scritto quindi lì però è stato un caso dove non si è abbassata la richiesta si è trovata una modalità diversa ma sulla base però di un confronto con il docente che portava la sua competenza e noi portavamo quello che sapevamo insomma di quello studente anche dal punto di vista clinico ci siamo messi a tavolino a cercare di capire chiaro che dovremmo anche noi come docenti essere un po' più plastici da questo punto di vista essere rigidi fermi da questo punto di vista forse Formide potrà dare una mano formare docenti che insomma siano formati anche su questi aspetti Sì mi piace pensare che queste possono essere delle opportunità di riflessione che vadano poi a beneficio in generale del nostro lavoro come docenti perché riflettere su quali siano le modalità di verifica dell'apprendimento adeguati e coerenti con gli obiettivi formativi è un esercizio che forse facciamo poco oppure forse abbiamo fatto una volta per tutte e poi replichiamo di volta in volta pensare che c'è un bisogno specifico ci porta a riflettere ancora una volta sul fatto che quella particolare modalità di verifica sia legata alla necessità di accertare quella competenza e quanto sia importante quella competenza speriamo di trovare poi delle modalità come dire alternative che siano ugualmente funzionali nello stesso scopo io anche penso che ci possano essere delle situazioni in cui l'alternativa è netta insomma usiamo quel metodo oppure non verifichiamo quelle competenze lì sono scelte un po' difficili speriamo di saperle fare insieme insomma verificandoci poi e confrontandoci sui problemi concreti c'è un'altra domanda davanti Alberto visto che prima si era parlato del fatto che sta allo studente contattare il docente per stabilire un po' la modalità d'esame non che lo faciliti ma che lo metta nelle condizioni di mostrare le proprie competenze le competenze acquisite o le conoscenze acquisite mi chiedevo se magari qualcosa poteva essere detto in merito al centro linguistico e all'esame di lingua magari agli studenti può interessare appunto che procedura devono seguire perché non c'è un docente ecco sì allora per quanto riguarda l'esame di lingua con il centro linguistico dell'ateneo finora ci siamo accordati in questo modo allora lo studente sa che deve fare un esame di lingua per il suo corso di studio almeno che non abbia altra certificazione che viene riconosciuta quello che succede è che nel momento del colloquio lui viene informato che per gli esami curriculari quindi non di lingua la modalità per la richiesta delle misure è quella di registrare prenotarsi all'esame tramite S3 e poi palesare la propria richiesta al docente di riferimento viene poi invece nel modulo c'è una parte separata per quanto riguarda il centro linguistico di ateneo sia che individua le misure specifiche che nel caso sono la possibilità di avere il 30% del tempo aggiuntivo sulle prove scritte previste la possibilità di poter dopo 60 giorni ripetere soltanto le prove in cui non si è stati sufficienti per cui delle 4 competenze di cui prima si parlava che sono e adesso qualcuno mi correggerà che sono il listening la comprensione scritta la produzione scritta e il colloquio orale e la ok bene allora su queste 4 competenze se io per esempio faccio la prima parte di ascolto e la supero faccio la seconda di comprensione scritta e la supero e non supero la parte di produzione scritta quello che succede è che dopo 60 giorni io ho la possibilità di tenere congelate le due prestazioni superate e di ripartire non ripetendo tutte le prove ma dalla produzione scritta che è quella sulla quale io sono stata non ho avuto una prestazione adeguata l'altra cosa che è possibile fare per i ragazzi che hanno un accertato problema nella memoria uditivo verbale a breve termine è quella di prevedere un ascolto aggiuntivo nella prova di listening perché nella prova di listening è previsto che il testo registrato non possa essere fermato e possa essere ascoltato completamente soltanto due volte dallo studente e quindi viene prevista un ascolto aggiuntivo in alcuni casi in cui questo deficit era particolarmente grave è stato fatto sì che si potesse attraverso un lettore umano unire anche il labiale che poteva essere un aiuto per lo studente ma quello è stata una decisione presa diciamo extra ad hoc per quel determinato studente e l'altra cosa che si può fare è poter avere poter svolgere la prova con il computer ovviamente il computer nella prova di produzione scritta per esempio non può avere il correttore ortografico perché la competenza ortografica per quel livello di lingua è un qualcosa che è definito e che viene valutata dagli insegnanti quindi è una competenza che deve essere valutata però per esempio si può avere il sintetizzatore vocale che legge per esempio la parte di testo che è stata prodotta o la parte di testo della comprensione scritta della seconda prova altra cosa che si può fare per alleggerire il carico è richiedere di avere la possibilità di fare le tre prove scritte con una pausa intervallate da una pausa tra una e l'altra oppure di farne per esempio due la mattina o una al pomeriggio ecco quindi per per gestire un pochettino meglio il tempo la richiesta di questa che rientra sotto la modalità di SA nel gergo diciamo di comunicazione tra noi viene fatta viene comunicato allo studente che vi ripeto firma il modulo e gli viene rilasciata una copia e per la privacy allo studente viene rilasciata una copia anche degli appunti che io prendo del colloquio quindi gli viene rilasciato tutto e praticamente c'è scritto nel modulo creato dal servizio inclusione che non si devono prenotare all'appello online ma devono prendere contatto con la segreteria del centro linguistico e c'è l'indirizzo mail e il numero di telefono chiedendo che loro devono svolgere l'esame di quella determinata lingua e quel determinato livello con la modalità di SA e quindi poi il centro linguistico in una ventina di giorni si occupa di predisporre tutte quelle che sono le richieste delle misure per quello studente e far sì che lui possa fare la prova altra domanda io vorrei fare una riflessione un po' sul concetto di neurodiversità e anche di metacognizione si è detto più volte che il concetto di neurodiversità la neurodiversità è una cosa è un valore la diversità anche a livello cognitivo e cerebrale è una cosa da valorizzare però in tutti questi discorsi mi è sembrato che ci fosse una particolare enfasi su chiaramente anche per motivi organizzativi e strutturali come è formato il percorso universitario sui deficit di questi studenti e quindi su ad esempio le possibilità di come ovviare a questi deficit con ad esempio metodi compensativi e dispensativi e mi chiedevo se l'università in qualche modo favorisse un percorso dello studente con questi disturbi un percorso che permetta allo studente di scoprire quali sono i propri punti di forza che possono essere radicalmente diversi rispetto a quelli di uno studente tra virgolette normale e anche magari in un'ottica che poi si rifà al contesto lavorativo come questi punti di forza possono essere sfruttate per la propria persona quindi quello che riassumendo vorrei sapere se c'è questo focus proprio sui punti di forza piuttosto che solo sui deficit rispetto a una persona senza questo tipo di disturbo grazie allora e considerate che l'evento allora io prima ho detto cerchiamo di lavorare per far emergere le potenzialità ovviamente questo è un evento formativo i cui i destinatari comunque essendo che è promosso anche dal forbid sono tutta una serie di persone che non hanno diciamo così tanta confidenza con quelli che possono essere i problemi che nella realtà quotidiana di io che sono della segreteria studenti piuttosto che faccio parte del servizio inclusione piuttosto che sono un docente un assistente docente mi trovo davanti e potrei trovarmi davanti quando incontro uno studente di SA allora questo nasce è un'esigenza formativa e informativa questo nasce anche dal fatto che soprattutto per la formazione universitaria all'inizio quando era stata promulgata la legge anche tanti delegati di dipartimento la domanda il leitmotiv della situazione era ma questi studenti ci sono ci fanno cioè quanto hanno diritto la diagnosi esiste veramente perché io devo dare queste misure quindi diciamo che per esigenza di strutturazione dell'intervento abbiamo messo insieme le due cose nel senso che c'è stata come ha potuto vedere una prima parte che è quella fatta dalla professoressa Venuti che era più a livello formativo dove andava a descrivere le caratteristiche e anche i deficit delle persone che hanno questo tipo di diagnosi per favorire all'uditorio una comprensione anche per chi non è perché io potrei essere una persona con disturbo specifico dell'apprendimento e quindi alcune cose le so per la mia esperienza ci sono però all'interno del pubblico tutta una serie di persone che comunque si sono trovate in maniera forse anche accidentale e accidentata aggiungerei a incontrare delle persone con disturbo di apprendimento avere dei dubbi o fare delle azioni sulle quali poi hanno ripensato che molto probabilmente non avrebbero fatto se avrebbero avuto maggiori diciamo strumenti e maggiore conoscenza quindi si è cercato di dare negli interventi in realtà entrambe le visioni comunque considerate che anche il primo intervento ha parlato tanto di aspetti legati alla neurodiversità con l'idea di valorizzare questa cosa però io per valorizzare devo conoscere allora se non conosco temo ho paura e ovviamente la paura più grande è quella di favorire uno nel confronti dei tanti studenti e quindi creare uno svantaggio o a favore o a sfavore del singolo quindi questo è spesso c'è sempre bisogno di qualcuno che abbia la competenza per dirti che cosa tu devi fare che non hai sempre il supporto quindi è per questo che si sono presentate e si è cercato di fare degli interventi che dessero sia informazioni più specifiche su quelle che sono le caratteristiche l'origine dei deficit quali deficit ci sono e dall'altra parte l'ottica con la quale nascono tutti i servizi che ci sono all'interno del nostro Ateneo ed è anche il motivo per cui qui ci sono persone che fanno parte e rappresentano l'area anche tecnico-amministrativa e non solo quella di docenti piuttosto che di studenti proprio perché c'è bisogno di confrontarsi e di vedere un po' il problema a tutto tondo e all'interno dell'università nel nostro lavoro come buona prassi cerchiamo di far sì che lo studente prenda contatto con gli aspetti più legati alle proprie potenzialità quindi nel momento in cui io faccio un colloquio iniziale e lo studente lo conosco da un'ora e mezza posso permettermi di fare delle considerazioni ovviamente quando lo studente si trova in difficoltà e si rivolge a me più volte non è più l'ora e mezza di conoscenza che abbiamo abbiamo fatto un altro tipo di percorso e quindi all'interno di quel tipo di percorso lo studente si sente anche più libero di dare tutta una serie di informazioni e di ragionare su tutta una serie di cose che fanno sì che emerga di più la potenzialità che non il deficit scusate una cosa che mi veniva in testa mentre si parlava prima parlando della pagina web si è detto una pagina web per una persona DSA probabilmente viene compresa addirittura meglio da una persona non DSA allora espandiamo questo discorso non è che il problema potrebbe essere questo che in realtà ci vorrebbe una didattica non solo delle prove di esame ma una didattica pensata diversamente e si potrebbe anche pensare che una didattica organizzata diversamente oltre a essere efficiente per una persona DSA potrebbe essere perfino più efficiente per una persona non DSA aggiungo ancora quando lei diceva prima faceva prima il discorso di anglosassoni che hanno più tradizioni in queste cose usano anche una tipologia didattica diversa esempio scemo una classe invertita è meglio di una lezione frontale per un DSA o no mi pongo questa domanda ci potrebbe essere qui specialmente in previsione di una crescita di numeri significativa una domanda rivolta a noi non tanto di usare delle prove diverse compensate eccetera ma una domanda di adeguare la didattica che facciamo che è una cosa ben diversa dal semplice discorso delle sì allora avevi fatto una no prima la prolettrice ci mancherà no volevo solo ringraziarla perché diciamo che credo che sia un contributo che rientra proprio nello spirito anche di questa iniziativa insomma e la riflessione che vogliamo fare è veramente mettere in discussione il nostro metodo didattico è vero che nel momento in cui non mettiamo lo studente al centro della ricerca del metodo didattico più adeguato lo studente la studentessa insomma gli studenti nella loro pluralità nella loro diversità queste esigenze possono emergere e possono emergere non necessariamente in maniera discontinua tra studenti tipici o non tipici rispetto appunto al DSA quindi volevo solo ringraziarla perché penso che questo sia lo spirito con cui dobbiamo interrogarci su modi diversi probabilmente la risposta non è una sola probabilmente sta nello sperimentare diverse modalità e vedere come la classe reagisce insomma rispetto da parte nostra come servizio inclusione io come delegato e anche altri colleghi delegati facciamo in modo che ci sia attenzione su questo quindi quando si parla di nuove forme di didattica innovative va bene benissimo però facciamo in modo che siano inclusive quindi che siano accessibili a tutti altre domande? no? ringrazio le colleghe per le presentazioni molto interessanti ringrazio tutti voi per essere rimaste fino alla fine vi ricordo brevemente domani alle nove e mezza l'incontro con Anna Cardinaletti in aula 006 poi Sara Bocchicchio alle 10.30 in aula 117 Flavio Fogarolo alle 14 in aula 003 vi ringrazio e vi auguro una buona serata e ovviamente ci vediamo domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti